ci ha dato la prospettiva di lavoro nei prossimi dieci anni. Oggi pensavamo di festeggiare un momento, di dire che bello, festeggiamo questo momento, i libri sono arrivati finalmente in libreria, l'editoria ha aperto gli occhi e volevamo un attimo sederci e riposarci e invece no, abbiamo il programma elettorale della nuova amministrazione per i prossimi dieci anni. Anche in questa prospettiva, nella prospettiva appunto di crescita c'è una grande domanda ormai che da diversi anni insomma interpellava l'equipe di traduzione, abbiamo tradotto tanti libri per bambini, siamo partiti dai libri tipo Teo Cozza, i libri per bambini piccolissimi, pochissimo testo, poi le fiabe, qualche testo in più, poi naturalmente c'è tutto il tema che appunto come vedete man mano che si risolvevano dei livelli si è potuti andare oltre e farsi delle domande anche sul diritto alla lettura di persone con un'età diversa, più grandi o con degli interessi di vita diverse e quindi è un tema che ci interpella molto, come dire appunto perché sono persone che magari nella loro vita appunto vivono delle esperienze che non c'entrano, va bene che le fiabe, le fiabe ci salvano sempre perché le fiabe essendo, avendo un grande valore metaforico si adattano a tutti i contesti, a tutti l'età di vita, però insomma a un certo punto le conosciamo ecco per cui il diritto di leggere anche nell'altro, ecco per cui volevo veramente annunciare con invidia questo lavoro che ha fatto il comune di Lecco, l'Avis di Lecco, questa casa editrice Deca che ha realizzato la versione in simboli dei promessi sposi, attenzione con l'imprimatur degli studi manzoniani, della società degli studi manzoniani, cioè non è che arriviamo noi, che tocchiamo un testo, un mostro sacro come i promessi sposi, questa cosa è stata fatta con la, non solo la piena autorizzazione ma con un lavoro, c'è Eugenia in sala, o non è ancora scesa, con un lavoro, ok c'è Antonio che conosce bene il lavoro ma mi raccontava Eugenia, appunto, cioè tutto è stato trattato lì, ogni singola parola, perché già ridurre i promessi sposi, cioè no un minuto di silenzio, un'ora di silenzio prima, tutto in proporzione, però insomma questo è stato sicuramente un'operazione simbolica fortissima, cioè se noi abbiamo tradotto in simboli promessi sposi il prossimo la Divina Commedia poi nulla ci mancherà, ecco, nel senso, dal punto di vista del significato culturale di questa operazione che è stata fatta, siamo veramente invidiosi, perché sai Sindaco, noi non ce l'abbiamo un'opera come i promessi sposi a Brugherio, no non ancora, non abbiamo degli scrittori, ecco giusto non ancora, vabbè siamo pronti. Bene, allora vi vogliamo fare assaggiare questa pagina di promessi sposi, la voce di Marika. La compassione, compassione, ce ne sai tu della compassione, la compassione è come la paura, quando ti prende non sei più come prima, non la voglio in casa, non sei, non parlato del rituale, ho sbagliato il che gli adores, ma ho promesso. Il pensiero di Lucia non lo lasciavo in pace. Il svegli螺mente, la compassione era grande, perché aveva doubletta. Lucia era ranicchiata lontano dalla porta Alzatevi, non voglio farvi del male Disse l'innominato Sono qui, ma mazzi, perché mi fate questo? In nome di Dio, disse Lucia Dio, Dio, sempre Dio Chi non sa difendersi, mette sempre di mezzo Dio Cosa pensate di ottenere? Cosa posso ottenere io, meschina, se non la vostra misericordia? Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia Mi lasci andare Dio viene a rendere a merito Domani mattina ci rivedremo Intanto fatevi coraggio e riposate Detto questo, l'innominato uscì lasciandola tra i signori Lucia tornò a ranicchiarsi nel suo cammincio L'anziana serra non le era di nessun conforto Un applauso a Marica Al comune di Lecco Questa operazione è veramente importante Anche noi però abbiamo le nostre storie in simboli La storia sul tempiato di Moncucco Scritta dalla nostra Cristina Ungari Che è qui presente in sala La storia anche del conte Paolo Andreani Scritta da Laura Costanzi e Chiara Giusto Barbara? Sì? E Chiara Conti? Chiara? Ecco, giusto confermi Quindi le nostre storie di Brugherio Ancora che più Non sono ancora arrivate Come dire A certi A certi livelli però Noi le raccontiamo Le vogliamo raccontare anche in simboli Bene, adesso la parola a Silvio Rambrosio Se non la conoscete Niente, sì Silvia è una turbina Una turbina è quella macchina Che trasforma l'energia cinetica Che siete voi praticamente Cioè tutto questo movimento che c'è In energia meccanica Fare libri Ecco Questa è la turbina Anche fare rete Fare tante belle cose insieme Sì, sì Appunto Questo è il lavoro che fa Ma con l'obiettivo poi Esatto Di dare concretezza diciamo A tutto quello che Che si è mosso intorno a questo mondo L'intervento che fa Silvia Ci vuole introdurre E questa seconda parte del pomeriggio Una parte in cui vogliamo raccontare Dove troviamo gli inbook Come li possiamo usare Che cosa Come dire Che movimento c'è stato in Italia Da noi, regione Lombardia Ma anche in Italia Perché come una macchia d'olio Si stanno diffondendo sempre di più La presenza degli inbook E la prassi di leggere Libri in simboli I bambini Magari di introdurre letture Anche così Nella consuetudine Anche delle biblioteche Quindi soprattutto Adesso lei ci parlerà Del movimento molto virtuoso Che si è creato Tra le biblioteche Di tanta parte d'Italia Un lavoro A questo si riferiva anche L'assessore Valli Quando raccontava Dell'investimento Che questa amministrazione Ha voluto fare Tante volte Cedendo tanto tempo Lavoro di Silvia Nel dedicarsi Ad altri comuni Ad altre realtà Ad altri territori Ma perché Per vincere questa scommessa Dovevamo essere in tanti Dobbiamo diventare in tanti E soprattutto Perché sempre più bambini Possano in Italia Come dire Usufruire di questi libri Non dimenticherò mai Il primo utente Della sezione Leggere diversamente È stata una famiglia di Parma Di Parma Cioè nel senso Che come noi avevamo messo In rete questi libri Ci hanno telefonato da Parma E un sabato pomeriggio Sono venuti a prenderli Ecco Noi ci siamo detti Non deve succedere così Una famiglia di Parma Deve trovarlo a Parma Il libro per lui Ecco Quindi Tutte queste cose Che sono successe Ci hanno spinto In questo grande investimento Di cui Silvia è stata Una grandissima Appassionatissima interprete E sentirete adesso Buongiorno a tutti È molto tardi Quindi cercherò Di essere Veloce Poi magari approfondiremo Tanti argomenti In un altro momento Perché questo percorso Biblioteca in book Tutto è nato Dall'intuizione a Verdello Ormai questa La sapete tutti Questa storia È diventata una leggenda E di fatto Ha contagiato Brugherio Perché nel 2008 Esattamente dieci anni fa Avevamo qua Antonella Costantini Bibliotecario di Verdello E lì insomma Ci siamo innamorati Persi Di questo Di questo percorso Che si è allargato Come questa cascata Da una gocciolina È diventata una cascata Che ci ha Sicuramente inondato Ma è stata anche una marcia Una marcia per l'inclusione Un cammino insieme Che si è snodato Su tre filoni Il filone dell'inclusione Dell'accessibilità La qualità I punti di forza Dell'inbook E il rapporto progressivo Con il mondo editoriale Leggere è un diritto Per tutti La cultura è un diritto Per tutti La gioia Il piacere Della lettura Il poter trovare Il proprio libro In biblioteca E i libri in simboli Devono essere In una biblioteca E qui Concludo Noi abbiamo Voluto Credere In questo diritto L'inbook È un libro Tradotto in simboli Nato per facilitare L'ascolto Della lettura Ad alta voce Di libri Illustrati Per bambini Sapete che c'è Un insieme Di libri in simboli Alcuni sono in book E alcune biblioteche Hanno scelto Di diventare Biblioteche in book Di autoprodurli Perché Si sono proprio Innamorati Di questo progetto Che c'era dietro L'inbook Proprio Dell'essere un libro In simboli Per facilitare L'ascolto Della lettura Ad alta voce Con tutti i benefici Di cui parlava Antonella prima Un po' come era Nello spirito Di fatto Di nati Di nati per leggere Nella filosofia Ma attenzione Certo che sono nati Per bambini Ma poi Nuovi contesti Nuovi lettori Sono stati scoperti Nel tempo Questi in book Sicuramente Si leggono in braccio Se un bimbo Se un bimbo è piccolo Si leggono insieme Perché devono essere letti Ad alta voce Ma si leggono in compagnia Anche in sincronia In coppia Avete visto i due bimbi Cinesino di prima Come leggeva bene In cerchio Tutti insieme Ascoltando magari La maestra O in classe Dal nido La scuola dell'infanzia Sino le scuole superiori In famiglia Il fratello più grande Che legge il più piccolo Ma attenzione Anche in autonomia Da soli Perché Non solo per bambini Ma li leggono anche Ragazzi Giovani E adulti L'inbook è cresciuto Sicuramente Quali sono oggi Sui punti di forza L'inbook segue Un modello coerente Non rigido La lingua Ha bisogno di elementi Di coerenza importanti Condiviso Tra tutto questo gruppo Di lavoro E dinamico Perché dicevamo Che l'inbook Sicuramente Come la narrativa Insomma Può comunque cambiare Nel tempo Il punto di forza Legato all'inbook Sono le keep Avete visto Qualche keep Della Lombardia Le keep Sono equip Non improvvisate Formate Che da anni Traducono in book Con grafici Con i supervisori Lavorano Col territorio Con le persone E con le biblioteche Arrivano dai territori Arrivano dalle biblioteche Le biblioteche Stimolano i territori I territori Stimolano le biblioteche C'è questa sorta Di triangolazione E hanno contribuito A far nascere Il centro Il centro Studi in book Con il loro pensiero Con il loro costrutto Con il loro confronto E sono arrivati Anche l'editoria Editoria Ha bisogno Dell'equip E molti territori Ci stanno chiedendo Posso avere anch'io L'equip Che sa fare l'inbook Quindi abbiamo iniziato Al momento con Cremona Con Fiorenzuale Ma ci sono altri territori Che sono interessati Parlavo prima Anche di Cologno Qua vicino Che è un territorio Dope usano molto L'inbook E potrebbero essere interessati L'inbook In biblioteca Chi li legge? Allora Alcuni Li conoscono E vengono a cercarli Sappiamo che qua ci sono A volte Non li conoscono Proprio proprio bene E dicono Ma forse Ho sentito dire Che in questa biblioteca Potrebbe esserci un libro Per il mio bambino Non ne sanno molto Per cui Gli devi dedicare La prossima mezz'ora Del tuo tempo A spiegare Quello che voi avete Un po' visto adesso In due ore Magari in maniera Un po' concentrato Da bibliotecaria Però a spiegare Altri invece Vengono Che sanno tutto Più di me Quindi cerco nel libro Sui dinosauri Non abbiamo libri Sui dinosauri Nel progetto Abbiamo appena finito Abbiamo fatti due Così Insomma In qualche modo Siamo a posto Vogliono Chiedono proprio dei libri Per i piccoli Per i grandi Quindi vengono a cercarli Altri lì Scoprano a scaffale Si lasciano incuriosire Come si diceva prima Magari gli adulti Sono i perplessi I bambini Devo dire Molto 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 meno Li prendono Smontrano a scaffale Li guardano Iniziano a due anni E a sette e otto Ormai su cinque o sei anni Che li seguono Continuano a prenderli in book Cambiano gusti Eccetera Giovani adulti Tutti vengono accolti Tutti vengono ascoltati Tutti vengono orientati Nella scelta E loro raccontano Tante storie Emozionanti A volte A volte si forma un po' Questo agora Ognuno racconta Dice Chiede Ci fanno tante richieste E la biblioteca diventa Un croceria Di persone Di storie E continuiamo così Piacciono a tutti E sono molto richiesti Ma Questi in book Alla fine Chi li produce Dove si trovano Si comprano E quando ne arrivano Di nuovi Quest'ultima frase Poi è sempre Un colpo al cuore Perché ogni volta Doviamo inventarci Un progetto regionale nuovo Ci sono questi interrogativi La biblioteca Si è trovata Di fronte a questi interrogativi E quindi Che cosa hanno deciso Le biblioteche Negli ultimi anni Hanno deciso di Autoprodurre In book Ad oggi sono disponibili 400 ma sono più vicine 500 titoli In 40 biblioteche Queste 40 sono più vicine Ai 60 Che non ai 40 Se andiamo avanti così 2018-2019 Potremmo arrivare anche A 60 biblioteche in book Qualcuno È stato perplesso Ci hanno fatto delle critiche Non sono libri veri Un po' la filosofia Del tutto fabbrodo Beh sentite Noi abbiamo dovuto Autoprodurre L'in book Abbiamo aperto una breccia Abbiamo fatto una scelta Sicuramente un po' provocatoria Ma dovevamo Rispondere Alle richieste Dove si trovano Posso avere dei libri Che vanno bene per me Certo Nell'editoria Magari Ogni tot mesi Qualche anno fa Qualche libro usciva Magari non era adatto Per quel bambino Non piaceva C'è sicuramente Un diritto di scelta Quindi dobbiamo rispondere E quindi abbiamo Aperto questa breccia E siamo andati avanti In due direzioni Perché ci mancava La bacchetta magica Potevamo trasformare I 500 libri In libri pubblicati Avremmo fatto Non abbiamo la fila Degli editori Che vogliono fare in book Qualcuno inizia adesso Per cui abbiamo continuato Seguendo due direzioni Quello di garantire La scelta Di titoli Ogni Bambino Ragazzo Adulto Ha diritto A poter scegliere Non due o tre titoli Ma molti di più Poter entrare nella biblioteca E trovare I libri in simboli La tiratura È limitata E concordata Con le case editrici Non siamo a case editrici Non sostituiamo Le case editrici La veste La veste è volutamente artigianale L'avete vista Fuori nei libri Con la spirale Giusto qualche libro Per i più grandi Lo faremo in brossura Con una cura Della qualità Perché costano Molto Fare Gli in book O con Strumenti Che comprendiamo noi Oppure facendoli fare In tipografia E c'è questa chiara Differenzazione Con l'editoria Appunto Per il tipo di relegatura Dopodiché Abbiamo deciso Di aprire i rapporti Col mondo dell'editoria Un cammino lungo Con molte criticità Prima di sostituzione Assolutamente sì Perché non esistevano In book Poi a mano a mano In qualche modo Di integrazione Non ci sembrava vero E alla fine Di collaborazione Con La prima sostanziale Produzione di in book Che è avvenuta Di fatto nel 2017 Con una prima bibliografia E ad oggi Questa seconda bibliografia Che trovate Nella cartellina O comunque nel banco Anche di Dario E ci avviamo Una progettualità Comune A una sinergia Puntiamo A idee nuove A lavorare insieme E il 2019 2020 Punteremo A fare libri Autoprodotti E ad aiutare Anche le case editrici A produrlo Attraverso i progetti Regionali Già in questo 2018 Che partecipano Pochi sistemi bibliotecari Sperimentalmente Pubblicheremo Un libro Nato da un progetto Di alternata scuola Da lavoro Con la casa editrice Storia Cucite Sempre chiaramente Se la regione Lombardia Ci viene incontro Adesso andiamo a vedere Quali sono le biblioteche Perché magari vi interessano Vedete in bianco Quelle che ci sono già E in giallo Quelle che nasceranno Nel 2018 Ho messo dentro Anche qui Dei progetti nuovi Ci sono Vedete Molte Molte Provincie scoperte C'è la provincia Di Sondrio Che però È interessata E quindi Siamo molto Molto contenti Di questa cosa Le Marche Un'altra realtà Molto attiva Con una fondazione Fondazione Arca Di Senigallia L'Emilia Romagna Che questo Un contesto Molto 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 attivo Molto vivace Con nuove biblioteche Che nasceranno A breve E poi Il resto D'Italia Finalmente Fino a pochi mesi fa Era una cartina Completamente vuota A parte Foligno La famosa Traduttrice Che aveva citato Prima Laura Valli Effettivamente Di Foligno E il solito Trentino Alto Adige Che anche qui Sempre Spicca Però adesso È iniziato La Puglia La Toscana Che sono dei Dei bei progetti E alla fine Arriviamo Arriviamo Alla sfida Dell'editoria E della libreria La sfida Di pubblicare E la sfida Di poter vendere Per le librerie Dobbiamo vincere La scommessa E per la scommessa Dobbiamo vincere Tutti insieme Questo libro Un in book È il logo Dell'editoria in book Lo trovate Su tutti i libri Le case editrici in book Iniziano ora Stiamo lavorando Creando Dell'equip unica Tra l'equip Della case editrice E l'equip Tecnica E questi libri Poi andranno Ne librerie Stiamo puntando Molto Sulle librerie Sulla formazione Sulla creazione Di scaffali Sul far riconoscere In book Sul formare I titolari Delle librerie Sul far rifare Anche promozione Il prossimo progetto Prevedrà Sette eventi In cui verranno Coinvolte Le librerie Locali Di un po' Tutti i territori Partecipanti Brescia Bergamo Milano Monza Brianza Eccetera E' molto importante Il contatto Con gli autori Ci sono degli autori Che nascono Proprio facendo Libri in book Ci sono altri autori Che sono molto interessati A poter A dire Mi piacerebbe Che la mia storia Fosse tradotta E' un lavoro Che coinvolge Le biblioteche Il territorio Le istituzioni Ogni in book E' collegato A un progetto Poi andremo a vederli Uno per uno L'editoria in book E' sicuramente Una svolta culturale Lo stato dell'arte E' questo Non mi soffermo Sui libri Perché li avete Di fatto già visti Già sfogliati Mi soffermo Un po' Sul progetto I primissimi libri Della Ericsson E' nati Dai genitori Dal centro sovrazzonale O Quadra biblioteca Di Brugherio E poi La serie Dei classici In C.A Pinocchio Piccolo principe Ma arriverà anche Il mago di Oz Lì c'è Il paese delle meraviglie Sono nati Proprio da un progetto Con le biblioteche E sono tradotti Da Roberta Che è La traduttrice Appunto Di Foligno Questo vedete Bellissime illustrazioni Di Pinocchio Dal piccolo principe Il collage Di Silvia Bonanni Il castello E' una casa editrice Che ha creduto All'inizio con Bravo Da un progetto Di nati per leggere Qualche anno fa E ha proseguito Aveva le persone Che telefonavano Alla casa editrice Per dire Quando arrivano Altri libri Quando arrivano Altri book Abbiamo continuato E qui Vedete Questi sono libri Il fantasma Nella mia stanza Tradotto Dalla biblioteca Di Brugherio Da Roberto Introzzi E poi E' diventato Un libro Edito L'abbiamo tolto Non è più autoprodotto Non ha più senso Non ha più ragione D'essere Perché è un libro Edito Pubblicato Lo stesso Egname Cucu Sono qua Tradotti Dall'equip Di Treviglio Vedete Queste sono Bellissime Illustrazioni Questi sono Libri Per i bimbi Più piccoli Poi Stario Cucite Nasce Da un progetto Di un'equip Di Bolzano E dalla biblioteca Aias Di Bolzano Una biblioteca Attivissima Mary Mary Martonette E' una traduttrice Anche lì Ha tradotti lei E sono libri Molto carini Uno appena appena Stato sfornato Adesso E' messo lì Segreto non segreto Molto bello Anche questo Molto simpatico Sono tutti libri Che trovate Nella Nella libreria Homeless book Che fa sia in book Sia libri di altro Di altro tipo Questi sono nati Da proprio Dai progetti Di formazione Dei libri su misura Che il centro Savazzonale Fa con i genitori A Milano Ridendo Scherzando Insomma Alla fine Questi genitori Hanno tradotto Tre Tre simpaticissime storie Questa E' una produzione Del casitrice Il papero Insieme con Un centro Dove ci sono persone Asperger Di Piacenza Che hanno illustrato E scritto Le storie E tradotte Tutti i libri Hanno la supervisione Ovviamente Il nostro valore aggiunto E sicuramente La supervisione E il lavoro Che fanno appunto I territori Questa è la nuova collana Della vita felice Ci sono due libri Che adesso abbiamo Proprio un prototipo Li stavo sventolando Prima l'editore Me li stava facendo vedere Natti proprio In book Alcuni sono nati Dalle biblioteca Di Brugheri Alcuni in Meleniano Alcuni Dalla biblioteca Di Rezzato Originariamente Questo è un libro Invece Della casitrice Bertoni Di Perugia Nato dall'esperienza Di una pediatra E il treno Andrea Valmontagna Dall'esperienza Di un'educatrice Di asilo nido E la traduttrice Appunto Adriana Ferranda Che è una fisioterapista Che collabora anche Con la nostra equipe E in arrivo Vedete il volantino Anche nella cartellina A gattino E col naso in su Che invece Questi sono libri Della casitrice Ciliegio Sono nati Come libri tradizionali E diventeranno In book Credo verso agosto Poi ve lo faremo sapere Ovviamente Non in book Solo per bambini Ma anche per giovani adulti Il diario di Anna Frank Grande successo Oggi lo leggevo Una bimba di dieci anni Insieme a cui per me si sposi Vedete un po' voi Molto bello Dracula arriverà Ho segnato aprile In realtà Non so bene Poi magari ce lo dirà Elvira esattamente Quando uscirà Dracula Con i disegni Tipo graphic novel Manga Quindi che piacciono Sicuramente ai ragazzi Il pinguino senza frac Un libro dolcissimo Se vedete Sembrano delle fotografie Ma in realtà Sono dei disegni Un'istattrice favoloso Un libro dolcissimo Nato da un progetto Dell'associazione Regis Di Reggio Emilia Con poi fondata L'associazione Arca Anche quello prima Scusate Del diario di Anna Frank È nato Dall'associazione Arca Che Lavora con l'inbook Neanche con i loro centri diurni Da molto tempo E alla fine I promessi sposi Nato anche questo Da un progetto Locale Giustamente Di Lecco E Tradotto Da Eugenia Ratti Le caratteristiche Dell'inbook Per i giovani adulti Sono sicuramente Diverse Rispetto agli a capo Rispetto alla semplificazione Sono diverse Perché appunto Il modello inbook Non è un modello così statico Esistono poi altri modelli Dicevamo Per esempio Libri di Camilla Che sono Penso questi Forse ce n'è qualcuno Che ci siamo persi Pensata Ma credo che siano questi Vedete che Il modello È comunque diverso Questa è la collana Dei pesci parlanti Che è in PCS Che questo C'è l'ultimissimo Il titolo È brutto natroccolo Alcuni Non sono più In pubblicazioni Può essere che Poi vengono pubblicati Ma in realtà Non lo so Con il formato Sfoglia facile Che è assolutamente Ergonomico Poi c'è Homeless Book Questo per esempio È un libro Che ci assomiglia Un po' all'inbook Ma in realtà Non segue esattamente Il modello Questa è tutta la collana In CA Di Homeless Book I riferimenti Sono Rete biblioteche in book Dove potrete trovare Tutti I libri Che sono Pubblicati Dalle biblioteche È un sito Un pochino ancora In costruzione Però potete trovarli Se abitate lontani Potete chiederle Col prestito Col prestito nazionale Con l'interibliotecario Andate alla vostra biblioteca Che potrà chiederlo A un'altra biblioteca Di mettere a disposizione Il Centro Studi in book Ne abbiamo già parlato Con Antonio E alla fine Arriva il mio grazie Un grande Un grandissimo grazie Ringraziare tutti È veramente È veramente impossibile Scrivo questa frase Che ho concordato Con Hermann Che ha fatto Come Alice Blyde Un grande Grandissimo grazie A tutti coloro Che hanno reso possibile Questa bellissima storia E che Continua Magari Con un po' più di calma Ma spero che continui Spero di essere Ok Sorge spontanea La domanda Cioè Ma Silvia Tu eri lì Quando nascevano Tutti questi progetti O come facevi Come carta moschicida A intercettarli tutti Cioè Qual è Com'è che tu li sei Tutti questi progetti Ma perché poi la voce Si è spaventosamente sparsa Quindi alla fine Noi abbiamo sempre un po' Questa funzione di accompagnamento Verso le biblioteche Verso i territori Che vogliono nascere Vogliono costruire Non diamo ricette Ogni territorio Ha una sua storia Sua specificità Una sua esperienza Quindi sicuramente Ascolto Cerco Creo Insieme Insieme Con altri colleghi O insomma Anche insegnanti Varie associazioni Che vogliono costruire Questa rete Poi diciamo Che i progetti regionali Ci hanno dato Almeno Quello Lombardia Una grossa Grossa mano Siamo già al quinto Al quinto progetto Il prossimo E ci sono già delle idee Per comunque Andare avanti Ma con dei progetti Sicuramente molto molto mirati Dove l'editoria Avrà Avrà una sua Importanza Perché ormai La svolta culturale c'è Le librerie Devono ancora un po' allinearsi Poi il Dario È Agguerritissimo Ha tantissime idee Ci piacerebbe creare Un po' questa rete Di librerie Come la rete di biblioteche Come la rete di editori Sempre a rete Tutti insieme Cercando un allineamento Di fatto Una sinergia comune Forte Non ho visto Se la provincia di Mantua È coperta No Ecco perché c'è in sala Una bibliotecaria Di Mantua Che mi ha chiesto Prima se possiamo Eh Mantua Mantua Ci gironzola Intorno di tanto C'è un Mantua Castiglione delle Stiviere Ecco E speriamo Certo C'era anche un Sondrio Non so poi Se sono Se è riuscita A A esserci Però avrebbe Insomma Perlomeno è riscritta Ok Dai forza Forza territori Cerchiamo di coprire Almeno Lombardia L'Italia Metteremo un po' più di tempo Però Benissimo Eh Beh Penso che abbiate avuto Una bella Un bello spaccato Di quanto lavoro Ci si può immaginare Penso quanto lavoro C'è dietro Per essere arrivati A questa situazione Di cui essere Veramente fieri Tutti insieme Cioè Siamo al tavolo Noi oggi Ma Questa condivisione La facciamo con tanti operatori Che sono presenti Sia delle biblioteche Sia operatori sanitari Eh Perché è davvero È stato un lavoro Di rete Molto forte Che prima o poi Riusciremo anche A formalizzare Adesso Eh Come dire Ci siamo Però un po' Tirati le orecchie A Brugheri Perché a furia Di andare in giro Per l'Italia Poi abbiamo detto Però La nostra rete locale Cioè Silvia continuava a incontrare Progetti veramente Molto interessanti Con Eh Case Esempi Di Connessione territoriale Molto forte E E E Noi Anche solo perché Eravamo fisicamente finiti Come persone Non riuscivamo A Non potevamo vantare Anche noi Magari modelli di questo tipo Che non possiamo ancora Ma vantare Perché non ci piace mille Antare nulla Però insomma Eh Sicuramente C'è un segnale Molto interessante Oltre ovviamente A Eh I nostri cittadini Che utilizzano la sezione Dei Dei libri in simboli I nostri servizi sociali Che Eh Come dire Fanno Che guidano gli educatori Nell'utilizzo della nostra sezione Quindi I nostri servizi Sanno Che noi ci siamo Non è una cosa scontata Sanno che noi ci siamo E che E lavoriamo In In collaborazione Ecco Perché i bambini di Brugherio Prima di tutto No? Sappiano Di Dell'esistenza di queste opportunità E infatti Abbiamo al tavolo Claudia Denti E Barbara Burati Claudia Denti È Una educatrice Del centro di urlo Di Sabini Di Brugherio Ed è Da subito Una delle nostre traduttrici Quindi Lei Educatrice del centro di urlo Noi bibliotecari Ci siamo subito incontrati E Messi insieme È stata Da subito Lei con Roberto Introzzi Che è stato citato Citato prima Come dire Dei partner fondamentali Oltretutto Già Come dire Lavorando nel centro di urlo Di Sabini Loro erano immediati mediatori Di quello che poi facevano con noi Barbara Burati Invece Che rappresenta oggi È una insegnante Una docente Nella scuola primaria Che rappresenta L'istituto Nazario Sauro Di Brugherio Con cui Abbiamo realizzato Un progetto Grazie E stiamo realizzando Un progetto Grazie A quei bandi Del ministero Di cui Gli docenti presenti Penso Sapiano Introduciamo Questo momento Con il video Perché Barbara Burati Si è gentilmente Prestata A venire a offrire La voce Antonella Graniero Che ci parlerà Dal video Antonella Graniero È una docente Di Brugherio Sempre nel loro istituto Nazario Sauro Che È referente Appunto Di questo progetto Book In E-book In-book Insomma È per la creazione Di un laboratorio Lo dico io Se mi dici tutto Io vado Perché Non volevo lasciare Armando qua in silenzio Va bene Allora intanto vi dico Cosa c'è in cartellina Sicuramente C'è in cartellina Un modulo Di iscrizione Al seminario Che è da compilare Se volete Che noi conserviamo I vostri dati E vi contattiamo Per altre iniziative Di questo tipo Non abbiamo bisogno Di registrarvi Però se volete Rimanere in rete Con noi C'è l'attestato Che potete Tranquillamente compilare Apponendo apposito Nome e cognome C'è la bibliografia La bibliografia È veramente Come dire Un Non posso parlare Sì 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 va bene Ok Facciamo cambio E comunque la bibliografia E comunque la bibliografia È specialissima Perché una bibliografia Di libri Cioè di libri editi Va bene Siamo a quattro pagine Ricordatevene Ci vediamo tra dieci anni Vediamo quante pagine avrà D'accordo Allora Barbara Introduce il video Mentre lo cerchiamo Grazie Allora buongiorno a tutti Io in quanto docente Prima di tutto E poi vicepreside Dell'istituto Sono venuta Volentieri Al posto di Antonella Che vi dirà Lei Dov'è in questo momento Era importante Che ci fosse Antonella In qualche modo Perché lei è stata Un po' l'anima Di questo Poi L'anima Che è stata Trainante Ma trainante Di una storia Perché l'istituto Sauro Si è sempre Occupato Dell'inclusione In mille modi Diversi Attraverso i progetti Dell'espressività Attraverso i laboratori Particolari Che grazie alla collaborazione Con il comune Con l'ente locale Con l'asla Di competenza Abbiamo portato avanti Negli anni Che si chiamano Il laboratorio Così por gioco E da quest'anno Il filo rosso Sono realtà vissute Quelle di includere Sempre i nostri I nostri ragazzi Quindi parlare Di questi libri Per noi era veramente Una Sfondare Una porta aperta I nostri docenti Qui abbiamo Dei docenti Che hanno fatto parte Della sperimentazione Quella che è stata Detta prima In quelle aule Dove hanno portato I libri E quindi ringrazio Le colleghe Ho l'onore Di aver avuto Delle colleghe Che hanno collaborato Tanto Con la Biblioteca Quindi appena Sono stati emanati Dei bandi Chi è docente Lo sa Adesso I finanziamenti Arrivano tramite I PON Quindi si devono Si deve partecipare A questi bandi Appena è arrivata La possibilità Di partecipare A un bando Che si chiamava Atelier creativi E laboratori Per le competenze Chiave Anche qui i docenti Sanno che adesso Si deve lavorare Per competenze L'idea È stata quella Di dire Ma non andiamo A creare nulla Di nuovo Cerchiamo di Portare avanti Ciò in cui Noi crediamo E così Abbiamo fatto Questa proposta Di aprire Questo atelier Che doveva essere Nel 2016 Questo È stata Inoltrata La domanda Richiesto il bando Poi sono arrivati I finanziamenti Lo stiamo allestendo Grazie soprattutto Alla collaborazione Del comune E della biblioteca Perché noi Soprattutto per questa Fetta Della creazione In buca Avevamo bisogno Di chi ne sa Veramente qualcosa Quindi già grazie E da lì è nata L'idea Abbiamo steso il progetto E mi è piaciuto Le coincidenze Mi piacciono sempre Perché credo Che non esistano Poi più di tanto Abbiamo fatto Un timbro Del protocollo 27 aprile 2016 Abbiamo inoltrato La domanda Con la progettualità E il 27 aprile 2018 Faremo l'inaugurazione Inaugurazione Di questo atelier Che vuole creare Libri Con i ragazzi Perché voi sapete tutti Che i bambini Imparano solo Attraverso Il fare E quindi In questo atelier Adesso lei Vi dirà Si creeranno Libri Libri Sia digitali Sia libri normali Sia libri In book Che verranno Dall'anima Dei bambini Quindi i bambini Creeranno Progetteranno Ideali Faremo questa Attività Che è per loro Così semplice Quella di creare E noi saremo Semplicemente Dei veicoli Grazie a delle Strumentazioni Adatte Riusciremo a fare Questi Ma chissà Magari un libro Di qualche Bimbetto Diventerà poi Qualcosa di più L'importante Che loro facciano Sperimentino Tutto ciò È nato In una scuola Che si è sempre Interessata a questo Che ha sempre Avuto Questo Questa attenzione Ma è un progetto Che si apre Quindi non è una cosa Dell'istituto Sauro Punto È qualcosa Che nasce All'interno Dell'istituto Sauro Però che è aperta Sarà aperta Tutto il territorio Quindi chiunque Qualsiasi scuola Potrà comunque Collaborare con noi Ci saranno dei corsi Di formazione Tenuti Dalla biblioteca Ai nostri docenti Perché Nemo profeta in patria È proprio vero Tutto il mondo Corre qui E noi Magari all'interno Della nostra stessa scuola Non lo sappiamo All'interno Dello stesso comune Non lo sappiamo Quindi l'idea è quella Proprio di aprirci Adesso Antonella Giustamente È lei Che deve parlare Dirà le quattro cose Che bene o male Ho già detto io E niente Vi aspetteremo Prima di tutto L'inaugurazione E poi Per poter collaborare E avere idee Da fare insieme Bene Grazie vicepreside Adesso diamo un volto D'Antonella Anche se So già Mi porto avanti Dirò che La taglio La taglio No perché Diverse cose Appunto La vicepreside Ce le ha Già giustamente No non è vero L'aveva tagliato prima Dopo lei No ma di più Buonasera a tutti Io sono Antonella Graniero L'insegnante Che si sta occupando Del Che si è occupata E si sta occupando Dell'allestimento Del nuovo Atelier creativo Della scuola primaria Non posso Sare lì con voi Mi dispiace Immensamente Perché In questo momento Sto facendo Un laboratorio Di didattiche Origami A Senigallia Ma Volevo Esserci Perché Io in questo progetto Ci ho Veramente Creduto Ma la cosa più interessante Ha detto che era a Senigallia Per fare un corso Di origami e matematica Dalla partecipazione A un bando del MIUR Del 2016 Dove Si chiedeva Di 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 Allestire Un Un atelier Un atelier Inteso come qualcosa Dove Non solo C'era la parte Digitale Strumenti digitali Da utilizzare Per progettare Qualcosa Di Tipo Dei libri Degli ebook Ma anche Una parte Dove L'alunno Gli adulti Altre persone Potessero Sperimentare Materialmente Cioè Con le mani Un'attività Un'attività Artigianale A questo punto Volevo Esserci Su Quello che Si è sempre fatto In questa scuola E sul Credere Vivamente Ai libri All'espressività Infatti La nostra scuola Il nostro istituto Punta molto Sul progetto Espressività Sul La promozione Della lettura Attraverso Iniziative Come Libri Amoci Come la partecipazione Ad attività Come book city In cui Il libro Fa È il tema Principale A questo punto Perché non Coinvolgere E chiedere E chiedere Aiuto Direttamente Alla biblioteca Di Puggerio E E lì È nata Anche l'idea Di dire Ma perché Solo libri E i book Ma ci sono anche Gli in book E questi in book Sono quelli Che hanno fatto Nascere In me il desiderio Appunto Di approfondire E di poter Dare la possibilità Ai nostri alunni Ma anche Tutti i bambini Che sono interessati E anche agli adulti Che ne sono coinvolti Di creare Un Un laboratorio In cui si possono Scrivere Anche Nell'in book Grazie Al Ai software Che Con questo Bando Abbiamo potuto Acquistare Un software Che è questo Di Simwriter È quello Che serve Per utilizzare La La comunicazione Aumentativa Alternativa Per scrivere L'in book E allora Abbiamo chiesto Aiuto alla biblioteca E come sapete Abbiamo questa Biblioteca fantastica Che è il Signore all'occhiello Di Brugherio E ci ha sostenuto Subito E infatti Adesso Stiamo ricreando Un Un angolo Di Brugherio Che è molto simile A quello che esiste Già All'interno Della biblioteca Perché ci sono Le stesse attrezzature Le stesse Le stesse Le macchine Per rilegare Libri Le stesse Lo stesso Sistema Per scrivere L'in book Ma non solo Non solo In questo laboratorio Si scriveranno Anche i book Si scriveranno Anche i book Si farà di tutto Ma soprattutto Ci sarà proprio Un laboratorio Un materiale Dove ci si farà Carto tecnica Dove si rilegheranno I libri E Io Devo ringraziare Immensamente Tutti quelli Che ci hanno creduto E che ci hanno sostenuto Esempio Dei genitori Che hanno messo A disposizione Che sono diventati I nostri partner Numero uno Che ci riforniscono Di tutto La carta Cartone Cartoncini Che vengono Di solito Buttati via Che sono scarti Per alcune industrie E' proprio la ditta Che ci ha sponsorizzato E' una ditta farmaceutica Dove Faccio la DJ E tolgo l'audio piano piano Ok E' molto interessante Questa operazione Perché Mi sembra Che Che l'istituto Partecipando a questo progetto Riesca a realizzare Una Praticamente Quello che non si è mai riuscito A fare in Italia Con le biblioteche scolastiche Passatemi La generalizzazione Perché in alcuni posti Si In altri no Ma che nasca Un altro laboratorio In book Sullo stesso territorio Che però Un po' periferico Rispetto Alla biblioteca civica Quindi benissimo Cioè serve Una popolazione Cioè Come dire Va a animare Anche un territorio Un po' più lontano Dal centro E che replichi Materiali Software Cose che succedono qui E' molto importante Quello che doveva succedere Con le biblioteche scolastiche In Italia Che non si è riuscito a fare Tendenzialmente Diciamo E questa Come dire Ci piace Ci è piaciuto ovviamente Abbiamo dato il sostegno A questo progetto Perché ci è sembrato Molto interessante Comportare Direttamente Delle famiglie Quello che noi non riusciamo a fare Con la nostra echipa professionale Perché Facciamo lavoro Per tutti Però Avvicinare Fare un laboratorio Dove potessero entrare i bambini Direttamente a lavorare Ci sembra Che vada sempre Di più Nella direzione Della cultura Degli inbook Di aumentare la cultura Degli inbook Per questo abbiamo Volentieri accettato Come comune Di sostenere Questo progetto Grazie Grazie mille E vi racconteremo Adesso la parola Claudia Denti Che appunto È un'operatrice Del centro di uno disabile Che è un'esperienza È una competenza A 360 gradi Perché non solo Li traduce i libri Appunto Ma essendo Un'educatrice Lei ha Un contatto quotidiano Con Le persone Con disabilità E Sono disabile Honoris Causa Volevo dirvelo Ho già capito Vai C'è una presentazione La cartella C'è in realtà Le slide Non è che sono Significativissime Solo per darmi Un puntello È questa Ok Allora Vabbè Finisco la presentazione Che aveva iniziato Enrica Lavoro al CDD Di Brugherio Ho lavorato 14 anni In un altro CDD Prima di arrivare A Brugherio Ormai Già nove anni fa E Dal 2010 2011 Non mi ricordo più Io e Roberto Che siamo due operatori All'interno del CDD Collaboriamo con La biblioteca di Brugherio Per Arricchire La La sezione Di libri In simboli Cinque minuti fa Mi è venuta in mente Questa cosa Prima di iniziare Sul volantino C'è questa scritta In simboli Che dice Leggere è un diritto Per tutti i bambini E mi è venuto da pensare Che magari si potrebbe Intitolare Questo Mio intervento Leggere E dire È un diritto Per tutti Questo Sempre per darmi Un contenitore Che mi appartenga Insomma Perché poi Vago Al CDD Come dice Illustra bene Questa slide Il CDD È un posto Dove si vede Si sente E si parla Nonostante La disabilità Nel CDD Vengono Il CDD È frequentato Da persone Con Sulla carta Disabilità Medio gravi Gravi E gravissime La realtà Dei fatti È che Ognuno di noi Anche noi Normodotati È portatore Di qualcosa Di medio Grave Gravissimo Ad esempio Io sono Totalmente Incapace Di relazionarmi Con i numeri Sono molto meglio Su altre cose Penso Qualcuno Di tutti noi Questo per dire Che queste persone Sono portatori Di Prima che Disabilità Di variabilità Disomogeneità Anche se È un termine Negativo E Queste caratteristiche Sono Difficilmente Impilabili Dentro Un quadratino Dove mettere Una crocetta Al CDD Si vede Si sente E si parla E il tentativo Che si fa Tutti i giorni È di tentare Di cogliere Di amplificare Ogni tipologia Di comunicazione In tutte le direzioni All'inizio Della giornata La dottoressa Costantino Ha parlato Abbastanza ampiamente Di linguaggio Io non ho le sue competenze Però Quella frase Che tutti Avrete sentito O letto È impossibile Non comunicare In un CDD È un dogma Non è neanche una regola È un dogma Non è un intento È la colonna portante Del lavoro Di ogni educatore Adesso spero di non sbagliare tasto Perché io sono facile A questa cosa qua Allora Questo schema È molto semplice Sono I tre livelli fondamentali Di comunicazione Verbale Paraverbale Non verbale Quindi Verbale Parole Paraverbale Timbro Tono di voce Volume della voce Non verbale Il linguaggio Il linguaggio del corpo Normalmente E con normalmente Intendo Tra cosiddetti normodotati Due terzi di queste comunicazioni Cioè la paraverbale E la non verbale Passano sotto traccia Ed emergono O ci si fa più caso Quando ci sono problemi relazionali E di comunicazione Tra persone o gruppe Per cui anche il paraverbale E non verbale Diventa quasi Vitale Per capire le intenzioni Dell'altro Per capire cosa ci vuole dire L'altro O gli altri In un CDD Questi tre Questi tre livelli di comunicazione Vengono considerati Di pari dignità E importanza Per ovvi motivi Perché Non tutte le persone Che frequentano il CDD Parlano Non tutte le persone Che frequentano il CDD Usano un paraverbale Le situazioni sono Appunto Come dicevo prima Molto variegate Molto disomogenee Questa cosa qua Di considerare Di pari dignità Importanza Questi tre livelli Di comunicazione Io ci tengo a sottolineare Che È una considerazione Che Al CDD di Brugherio Viene operata Anche tra colleghi Abbiamo imparato A A Leggerci E a dirci Anche senza parlare E questo in un'equipe Di lavoro È importante E Questi tre livelli Di comunicazione Sono La base Per la costruzione Di progetti individuali Che si fanno Sulle persone Che frequentano il CDD Vengono fuori Vengono fuori Delle situazioni Interessanti Diventa Questo Questo Della comunicazione Un mondo Particolare Diventa L'opportunità In un CDD Succede questo In un CDD Che tra operatori E persone E persone che lo frequentano Si costruisce Un linguaggio Un linguaggio Come se fosse Dentro Una patria Un paese Per cui ci sono Nelle comunicazioni Anche tra operatori Adesso ieri La stampante Non parlava Col computer Quindi vabbè Ve le dico Avevo preparato Una slide Ma non è funzionato In nessun modo Al CDD Si mischiano I linguaggi Ad esempio Adesso vi dico Qualcuna Delle parole Che anche Gli operatori Perché poi Succede questo Usano Per parlare Tra di loro O Con le persone Che frequentano Il CDD E che sono diventate Patrimonio comune È un linguaggio Osservate Cosa succede Nella vostra testa Io intanto Osservo cosa succede Nella mia Pupupo Schischioso Pizzitenne Caco Topotina Nuje Naie Babacher Babauccia Ape Bignoteca Papa Wawa Cece Pa Oio Sasale Pape Mimo Mu Bipe Mana Mia Ok Perché 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 Brava Dillo Perché È la biblioteca Allora Siamo nell'ambito Del Verbale Ok Ma è un altro Linguaggio Io so che Nella vostra testa Sono scattati Dei meccanismi Dico Questa parola Assomiglia A pa Potrebbe essere Papà No Non è papà Nella mia testa Invece È un linguaggio Codificato Io so cosa vogliono Dire queste parole E L'interscambio È talmente potente Che vi voglio raccontare Questo aneddoto Perché Quando mi è successo Io ho riso mezz'ora Qualche tempo fa Stavo parlando Con mia mamma Non so di che cosa Esattamente Però È finita che io Ho trovato Una foto Di una bambola Su Da far vedere A mia mamma E l'ho fatta vedere Mia mamma Era senza occhiali E lei diceva Ma che bella Questa bambina E io le ho detto Ma no mamma Non è una bambina È un pupupo Cioè no Una bambola La prima parola Che mi è uscita Dalla bocca Non è stata quella Della mia lingua ufficiale È stata quella Nella lingua del CDD Ora Tutta questa massa Di informazioni Che poi noi Ci giochiamo anche Nel senso che Ripeto Sono terminologie E strutture Che Noi usiamo Quando non c'è una cosa Mi dai l'acqua No Nui È finita Ok C'è una massa Di comunicazione Di intenzionalità Comunicativa Che Attraverso la CA E qui finalmente Arrivo a parlare Della CA Pensavate che non Ne avessi mai parlato Invece no Vengono incanalati Con queste Diciamo Queste altre Tre scimmiette L'intenzionalità La progettualità La progettualità E la condivisione La CA diventa Uno strumento Per Per riempire Di significato E concretizzare Tutte Le possibilità Comunicative E canalizzarle E canalizzarle dentro Un progetto E un Delle attività Delle cose concrete E come ultima Tappa La condivisione La CA Al CDD Di Brugherio È a disposizione Di tutti Indipendentemente Dal fatto che Nei singoli progetti Sia esplicitato Il suo uso Oppure no A occhio croce Io direi Che il 90% Dei nostri Dei nostri Dei nostri Bel personaggi Sono Hanno a che fare Con la CA Con i simboli Attraverso le attività Attraverso ciò Che c'è in giro Nel CDD E appunto Non c'è bisogno Di esplicitare O incanalare Dentro Necessariamente Dentro un progetto E l'esposizione Ai simboli Non riguarda Solo le persone Che frequentano Il CDD Ma anche Gli operatori Tutti gli operatori Anche se non sono Formati specificatamente Sono esposti Alla CA E la utilizzano E Oggi In particolare Vorrei parlare Un po' Tra virgolette Dell'utilizzo Culturale Che si fa Culturale Tra virgolette Chiaramente Che si fa Il CDD Non mi Non mi Non mi Trattengo Su altri Utilizzi Più educativi Su altri strumenti Come le strisce Le tabelle Altre cose Che sicuramente Tanti di voi Conoscono già E che sono E che sono Comunque Uno strumento Potentissimo Per Per intervenire Su comportamenti Problema Per intervenire Su Su altre Per colmare Delle altre Lacune Che ognuno Di loro Può avere E Quindi Questa Questa massa Di Possibilità Comunicative Vengono Vengono Incanalate Attraverso Delle attività Delle opzioni Una di queste Sono quelle Dei giochi Da tavolo E Al cdd Vabbè Non siamo Sempre troppo Prestazionali Ci piace Anche giocare Anche perché Il gioco È una cosa Molto seria E quindi Abbiamo Modificato Dei giochi Questo è il gioco Uno È modificato In simboli I simboli Sono simboli Che A cui sono Siamo esposti Tutti i giorni Perché Sono i simboli Delle attività Che si fanno Al cdd Alcune delle attività E poi appunto C'è il supporto Del colore Per Integrare Il gioco Questo è il domino I simboli Utilizzati Sono di oggetti Di uso Comune Che Con i quali Quasi tutte le persone Che hanno Che frequentano Il cdd Hanno a che fare Che conoscono E i giochi Sono Strutturati Così Permettono Al maggior numero Possibile Di persone Di partecipare Anche i non parlanti Anche I non moventi E tutti Hanno la possibilità Di stare intorno Al tavolo E giocare Con i compagni E con gli operatori Ed è anche A livello di programmazione È un formidabile Tappabuchi Poi c'è La lettura Di libri C.A. Abbiamo un'attività All'interno Del cdd In cui Ci si dedica Alla lettura Dei libri In simboli Abbiamo Una Una serie Di libri In simboli Dentro al cdd Che Ormai sono Vintage Diciamo Eh Cioè Ci sono Traduttori Che se Rivedessero Sarebbero Immediatamente Presi Da collasso Però Li conserviamo Perché Molte di quelle storie Sono lo specchio Degli interessi E delle aspirazioni Delle persone Che frequentano Il cdd Eh La storia Il contenuto Della storia È fondamentale È importante E E sono scelti Con una grossa Intenzionalità C'è dietro Una scelta Ben precisa A volte Addirittura La La scelta Di alcuni Di questi libri Sono delle Tacite richieste Di supporto In ambiti Di fragilità Quali Mi viene da dire La solitudine Eh Lutti O Lutti Non ancora elaborati O Cose del genere Per cui Passano anche Delle richieste O delle segnalazioni E Appunto Le storie Non vi le ho fatte vedere Che ciuccia Scusatemi Allora Questo è Questi sono due libri Personalizzati Perché appunto All'interno Del Del pacchetto Di libri Che possediamo Ci sono appunto Dei libri Che abbiamo prodotto Negli anni Questo è Una gita a Milano E l'altra Era un libro Che doveva supportare La motivazione Di Di Una persona Che frequenta il cdd Perché era un Momentaccio Per cui È servita Tra l'altro Piace a tutti Nonostante sia Un libro Personalizzato Piace a tutti Viene preso Anche da altri Compagni Questa invece È una storia Che abbiamo Autoprodotto Il testo Il testo è mio E l'illustrazione Sono di Roberto Per cui ci sono in giro Anche alcune di queste storie Autoprodotte Autostampate Autolistinate Auto E poi ci sono appunto E poi ci sono appunto Dei libri Di qualità Che sono reperibili In biblioteca Abbiamo un'attività Di uscita In biblioteca Per cui Un gruppo Di ragazzi E degli operatori Vengono qua in biblioteca Al venerdì mattina Scelgono dei libri Ci sediamo Al tavolo Della sezione Per leggerli E siccome siamo possessori Di una bellissima tessera Della biblioteca Li prendiamo in prestito Li portiamo al cdd E si condivide La lettura Di libri Anche con altre persone Che non partecipano All'uscita E Anche qua Ritorniamo Alla consapevolezza Della scelta Dei titoli Chiaramente Sono anni Che vengono in biblioteca Quindi ci fa piacere Vedere libri nuovi Per questo che io e Roberto Continuiamo a tradurre Libri per la biblioteca E E Però ci sono Delle Delle storie Come dire Che non Non saranno mai abbandonate Tipo Cane Nero È uno dei capisaldi Della E Cane Nero Solitamente Scelto Da Da Maria Che ha Una paura Tremenda Una fobia Tremenda Per gli animali È l'unica maniera Che Maria Ha per relazionarsi Con gli animali E leggere storie Che le piacciono Perché Quando sente Leggere di cani Gatti Eccetera Eccetera È molto sorridente Partecipa a questo mondo Animale Senza averne La paura Che ha Nella realtà C'è in futuro Un'idea di progetto Che prevede La collaborazione Del Del CDD Per l'etichettatura Della biblioteca Per cui Noi ci terremo Tanto a fare Questa Questa cosa Per essere anche Insomma Più presenti All'interno Della biblioteca Che ormai È È un posto Familiare E Devo dire che Vabbè Normalmente Negli ultimi anni Ci sono sempre stata io Abbastanza fissa In questa In questa attività Però Noto con piacere Che comunque Quando cambiano I colleghi Che mi accompagnano La prima volta Che entrino in biblioteca Si vede La luce Che sprizza È un'attività Che generalmente Piace anche agli operatori Grazie al cielo Per cui È È un posto Che sta diventando Familiare a tutti Nel CDD Poi abbiamo Da un po' di anni Questa attività Di Laboratorio Di libri CAA E In cui Da qualche anno Le persone Che frequentano Il CDD Assistono in diretta Alla scrittura In simboli E alla nascita Dei testi Che escono Direttamente Dalla loro Narrazione Dal loro Racconto L'attività È strutturata In modo tale Che intorno A un tavolo Si parli All'inizio Erano argomenti Di vita quotidiana Cosa ci piace Cosa ci piacerebbe fare Eccetera Eccetera Cose molto semplici Ultimamente Si è andati Sul versante Del libro Di cucina E Del Enrica Dimmelo Che devo schiacciare Sto bottone Santo cielo Ok E il versante Del canzoniere Questo ad esempio È la traduzione Del testo Il cowboy Piero Quindi stanno mettendo In piedi Un canzoniere Da un paio D'anni Al computer C'è Greta Che è una ragazza Di vent'anni Disabile E che Ha imparato A usare Il programma Di simwriter Per scrivere Ciò che i compagni Raccontano E Per cui Anche questo È mettere Le mani Direttamente In pasta Da parte Delle persone Che frequentano Il CDD Poi l'ultima nata Di queste attività Dove si turizza La CA È giochi di parole Giochi di parole È un'attività Prettamente Narrativa Vedete dei dadi Nelle foto I dadi Sono scritti In simboli Anche loro Tutto sommato I dadi Fanno da innesco Per dei processi creativi Che vengono sostenuti E oliati Dagli operatori È un'attività Dove mi piace dire Che Vale tutto E si va dappertutto Non ci sono vincoli logici Rispetto alla produzione Per cui Stanno venendo fuori Delle belle storie Originali Abbiamo appena scoperto Che dietro la luna C'è un paese Fantastico E E ci vorremmo Per Natale 2018 Ci vorremmo regalare Un libro autoprodotto Poi un'altro Un'altra carta In cui ci giochiamo La CA È Quello che io qua Ho chiamato Impropriamente Sceneggiatura Nel senso che È un'attività Che si chiama CHAC Nella realtà Era un'attività È un'attività Che avrebbe avuto Come Inizio Devo usare il condizionale Avrebbe avuto Come Come scopo La produzione Di un cortometraggio Abbiamo scritto Abbiamo scritto una storia Insieme L'abbiamo tradotta In simboli Non credo che si farà Il cortometraggio Per motivi logistici Eccetera Eccetera Però Ci teniamo Chiaramente Quello che abbiamo scritto Diventerà altro Nella mia testa Vorrebbe diventare Un fotoromanzo La mia testa Baccata Scusate Però ci proviamo È una storia Interessantissima Perché riguarda Un argomento Molto scottante Che è La dieta Per cui È di interesse Nazionale Ci tengo moltissimo Che se ne faccia qualcosa E se ne farà qualcosa Intanto Sempre da una cosa del genere In passato Esattamente nel 2012 Era già nata Una storia Che è diventata Un libro in simboli Che era Che è in prestito Qua nella biblioteca E che è stata Restaurata È stata scritta Nel 2012 Restaurata Quest'anno 2017 La magia più grande E mi fa piacere Che nella seconda Di copertina Ci sono I nomi Delle persone Che frequentano Il CDD Che l'hanno Ideata Io sono solo La traduttrice In simboli E Anche questa Chiaramente È un'attività Appunto A sfondo Prettamente Narrativo Anche se poi Si Nella Nel sottofondo Si vedono Si intravedono Galleggiare Personalità E Gusti Poi Allora Questa non è CA Io non so Se ce l'ho fatta A far venire fuori Questa roba Nelle cose Che ho detto Io ci tenevo Molto A che Venisse fuori L'importanza Del raccontarsi Del dire Del parlare Finalizzato O meno Perché non è necessario Sempre dire cose Serie Attraverso Al cdd Attraverso Diverse Modalità C'è Un'esposizione Continua Alla parola Alla comunicazione Non verbale Di qualunque tipo Che in ultima Analisi Però è ricondotta Sempre a una parola A delle parole Allora Questa è la scritta In ebraico Biblico Del vocabolo Parola Le tre Letterone grosse Chiamiamole così Sono le consonanti Quelle sotto Sono le vocali La parola insieme Si legge Davar Mi hanno parlato Di questa parola Mi hanno detto Questa cosa Che a me piace Molto condividere Con voi In ebraico Secondo la mentalità Ebraica Di quel tempo Ma anche Secondo altre Diciamo Civiltà Antiche Quel vocabolo Non vuol dire Solo parola Ma vuol dire Indifferentemente Anche fatto Oppure avvenimento E dal punto di vista Concettuale A me è piaciuto Molto sentire Questa cosa Perché La parola È un fatto È un avvenimento Che succede Tra persone O tra gruppi Questo concetto Che arriva Da Da un popolo Di 3.000 anni fa A me sembra Molto bello E mi sembra Anche un po' L'opposto Del nostro Verba volant No? La parola È importante Perché fa sempre Succedere qualcosa È un fatto Un avvenimento E quando ci parliamo Quando anche al CDD Facciamo qualcosa Che è ricondotto Una parola Succede sempre qualcosa Come minimo Una relazione Poi può succedere Anche altro E quello che si dice Appunto Acquista In questa maniera Uno spessore Diverso Una pesantezza Diversa E mi sembra Tanto importante Questa cosa Della parola E Della cosa Del fatto Che può succedere Qualcosa ovunque Che io vorrei Chiudere Leggendovi Un piccolo brano Di un libro Di Amos Hots Mi è andata bene Perché avrei potuto Anche cantare Al posto di leggere Ok E Questo piccolo brano Racconta Del momento In cui Amos Hots Che è uno scrittore Israeliano Non so se qualcuno Di voi lo conosce O ha letto qualcosa E Scopre Riscopre Di voler fare Lo scrittore Perché era andato In crisi Aveva la ribellione Totale Non voleva fare Tutt'altro Non ne voleva più Sapere niente Di libri Parole Cultura Eccetera A un certo punto Però riscopre Questa sua vena E riesce a capire Da che parte andare E ci riesce Dopo aver letto Non Chekhov Shakespeare Eccetera Ma dopo aver letto Uno sconosciutissimo Libro Di uno sconosciutissimo Autore americano Intitolato Intitolato Winesburg Ohio Che parlava Di un buco di polvere Nella immensità Dell'america E che a lui Ha cambiato la vita E lo esprime così Quest'umile libro Fu per me Come una rivoluzione Copernicana All'incontrario Copernico Aveva scoperto Che il nostro mondo Non è affatto Al centro Dell'universo Come si era creduto Sino ad allora Ma sono un pianeta Fra altri Del sistema solare Mentre Sherwood Anderson Che è l'autore Di questo libro Mi aprì gli occhi Mi indusse Raccontare Quello che mi stava Intorno Per merito suo Ho compreso Improvvisamente Che il mondo scritto Non dipende Da Milano O Londra E invece Gira sempre Intorno Alla mano Che scrive Nel luogo In cui scrive Dove sei tu Quello È il centro Dell'universo A Ulda C'era una stanza Di studio Dove nessuno Metteva mai piede Dietro la sala Di lettura Dei giornali Al piano terra Della casa Della cultura In fondo al kibbutz In quella stanza Abbandonata Mi scelsi Un tavolo d'angolo Lì Aprivo ogni sera Un quaderno Di scuola Con la copertina Marrone Sul quale Stava scritto Per tutti gli usi E anche 40 pagine Accanto al quaderno Posavo una penna Sfera di marca Globus E una matita Con la gommina In coda Sulla quale Erano incise Le parole Emporio centrale Oltre a una tazza Di plastica Di color beige Piena di acqua tiepida Di rubinetto Quello era Il centro Dell'universo Allora Se voi ci mettete Al posto di essere Un kibbutz Siete in un cdd Al posto del quaderno Avete un computer E metteteci voi In ogni posto Dove lavorate Siete nel centro Dell'universo Grazie Scusate Era molto difficile Interrompere Claudia Perché E poi perché No 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 Era molto importante Alla fine Mi prendo questa responsabilità Serenamente Siamo in ritardo Di mezz'ora E via Non fa niente Dopo Vogliamo festeggiare Insieme questo pomeriggio Con un aperitivo Tutti insieme Quando abbiamo finito Non è questo il motivo Perché voi dovete rimanere Comunque E perché Però è difficile Dare visibilità A quello che succede In un cdd E quindi Mi sembrava Veramente importante Farglielo raccontare Grazie Claudia Perché ci hai Proprio portato dentro E tra l'altro Non utilizzo Veramente a 360 gradi Penso che anche L'istituto Sauron Verrà a saccheggiarmi Secondo me Potrebbe essere Un buon partner Benissimo Adesso Finalmente Il piatto forte L'abbiamo tenuto Per ultimo Perché volevamo Veramente Finirlo con questo Applauso Questo seminario Patrizia Zaccagnini Della edizione L'americana Elvira Sì perché Patrizia È di là Eccola Dunque Chiamo al tavolo Tutti gli editori Che ci raccontano La loro esperienza Patrizia Frassagnitto Elvira Zaccagnini Non c'è Ribelli Ma c'è Gerardo Vero Della vita felice E anche Dario Barisco Della libreria Per i libri E invito Alessandra Mastrangelo Adesso le lascio Il mio posto No no Vieni Ci stai Qua Ah va bene Alessandra Mastrangelo È la coordinatrice Del sistema Bibliotecario Della Valle Seriana È una bibliotecaria Quindi Che è nell'equip Con noi Da molti anni Che sui suoi territori Ha fatto cose Anche più belle Di quelli Che abbiamo fatto noi E che condivide con noi Questa Questa urgenza Di portare Al pubblico Questi Prodotti Apparentemente Speciali Sì Grazie Enrica Sì effettivamente Con Con Enrica E l'equip Di Brugherio Abbiamo Condiviso Fin da Fin da subito La L'esigenza Di fare qualcosa Come biblioteche Per rispondere Alle tante domande Che il nostro pubblico Così Eterogeneo Vi parlo Dall'osservatorio Dall'osservatorio Della provincia Di Bergamo Quotidianamente Ci Ci investe E quindi È davvero da molti anni Che collaboriamo E Quindi sono molto contenta Di essere qui con voi Per fare un po' Da Come dire Da testimonial Del Del percorso Che ci ha portato Fino all'essere Felicemente Al tavolo Con Alcuni Degli editori Che hanno Coraggiosamente Accettato La sfida E Quindi Se da un certo Punto di vista Credo che Le biblioteche Che sono un po' Degli Avamposti Di Biodiversità Non soltanto Umana Ma anche Letteraria Continueranno A portare avanti Appunto Questa loro Mission Di essere Delle case Di accoglienza Di tutta la La bibliodiversità E quindi Continueranno Credo A produrre libri Perché La domanda È sicuramente Molto Molto Più alta Perlomeno Attualmente Di quella che è L'offerta Di libri Adeguati A rispondere Agli interessi E alle richieste Di tanti lettori Speciali Abbiamo visto Quanti tipi Di lettori Ci possono essere Non soltanto Chi ha delle disabilità Temporanee O Insomma Più continuative Ma Questi libri Di cui parliamo oggi Sono utilizzati Da moltissimi tipi Di utenti E quindi Come biblioteche Ci sentiamo Come dire Moralmente In dovere Di continuare Con buona pace Di Silvia Di tutti noi Questi progetti Ma è appunto Altrettanto Importante Anzi direi Importantissimo Che il mondo Editoriale Italiano Sia stato Stimolato Dalla Da questa Progettualità Così Così Attenta E così Come dire Capillare Sul nostro Territorio E quindi È per questo Che appunto Questa sera Abbiamo al tavolo Tre editori Che Tre editori E un Liberaio E un Libraio Tre editori Che Si Devo dire Si Sono Sempre Distinti Due Quanto meno Storie cucite Ha già Una Diciamo Un po' Più nuova E quindi Ci racconterà Come è nata La loro Esperienza Anche solo Di editori Che forse Nascono Anche un po' Quasi Direi Quasi Quasi Con questa Esperienza Però Per quanto riguarda Ericsson E la Meridiana Stiamo parlando Di editori Che Da moltissimi Anni Fanno Dell'attenzione Alla Alle richieste Speciali Del pubblico Dei pubblici Un po' Il loro Cavallo Di battaglia Quindi Le domande In realtà Anzi Dove è sparita Enrica Magari Ecco Dammi un tempo Dacci Uniamoci un tempo Teniamola Mezzo Così Perché Penso che L'interesse Anche del pubblico Sia alto Le cose Da chiedere E mi piacerebbe Non fare tanto Delle domande Individuali Ma Appunto Fare in modo Che tutti A loro modo Rispondano Più o meno A una stessa Domanda Quindi Diciamo che Appunto La domanda Che viene Spontanea È A fronte Di un Panorama Ricco e variegato Ma Come dire Autoprodotto Per le ragioni Che abbiamo Raccontato Questo pomeriggio Come vi siete Sentiti Di raccogliere Questa sfida Un po' Pionieristica Non solo perché Sul piano editoriale In Italia Non ci sono Moltissimi esempi Oltre a Qualc'altro editore Che come abbiamo visto Prima Fa parte Di questa rete Che produce I libri Di Camilla Ma appunto Stiamo parlando Di pochi titoli Come vi Vi siete sentiti Visto che Immagino Non Non l'avrete Neanche fatto Per chissà In vista Di chissà Quali Messe Di guadagni Ma non credo Neanche Per un mero Spirito Filantropico Per cui Mi interessa Penso ci interessi Sapere Come Anche Editori diversi Con Alle spalle Delle esperienze Diverse Hanno Deciso Di dire sì Quindi Magari Se Su questa Prima domanda Vi Facciamo un giro Se abbiamo Un altro Un altro Microfono Usa Ecco Le lascio Subito la parola Grazie Per chi Non mi conosce Gerardo Mastrullo La vita felice E per me Devo dire Facilissimo Rispondere Anche perché Io sono Stato tirato Dentro come Editore Dall'autoproduzione Anche perché Per mia fortuna Sfortuna Non lo so Comunque sono L'editore Di quel Teo Cozza Che è stato Il primo Ad essere Autoprodotto Proprio Credo Dall'olio Teca di Brugherio Quindi L'olio Tecario Quindi Sì Io sono stato Peraltro Bibliotecario Per dieci anni E Teo Cozza È bibliotecario Ancora oggi E ha lavorato Nell'olio Teca che io Dirigevo A Mariano Comense Quindi C'è una storia Di amicizia Per quanto riguarda La pubblicazione Invece Mi è arrivata Semplicemente Una mail Dall'olio Teca che mi diceva Che volevano Tradurre Questo mio libro In simboli Se davo loro L'autorizzazione Io ho detto Sì Non ci sono problemi Anche perché Cinque copie Non mi cambiano La vita E poi Comunque Era una cosa Che al di là Di tutto Mi faceva piacere Anche se Lo ammetto In modo molto Inconsapevole Anche perché Non avevo capito Cosa fosse La traduzione In simboli Non avevo capito Quale fosse La finalità Di un libro Di questo genere Non conoscevo Questo Ambito Di Dire sì Esatto No siccome Appunto L'iniziativa Veniva dall'olio Teco Ho detto Mi fido Lo faccio Sicuramente Mentre Credo Che proprio A partire Dallo scorso anno Ho preso Molta più Consapevolezza E peraltro Non da Uno specifico Di libri per bambini Ma dal fatto Che ho pubblicato Un libro In cui si racconta La storia vera Di una mamma E del suo bambino Autistico Avere pubblicato Questo libro Avere corretto Le bozze Mi ha proprio Fatto precipitare In un mondo Che forse Non volevo conoscere Comunque non conoscevo E appunto All'improvviso Mi è caduto addosso Nel suo bene Nel suo male E proprio contestualmente A questa cosa A Torino A Milano Libri Dello scorso anno Ho incontrato Silvia Abbiamo parlato Di questo libro Abbiamo parlato Della mia idea Di Io avevo Ho interrotto Per circa Cinque o sei anni La pubblicazione Di libri per bambini Poi invece Proprio l'anno scorso Ho deciso Di voler ricominciare A pubblicare Libri per bambini Perché volevo Tornare a divertirmi Io faccio sempre Autori classici Tradotti Dalle lingue straniere Dall'inglese Dal tedesco Dallo spagnolo Insomma Sempre cose A volte anche Un po' pesanti Quindi volevo Ritornare a divertirmi Come editore E fare delle cose Belle Anche da fare Fisicamente Quindi E Contestualmente Quindi a questo rilancio Delle collane Di libri per bambini È nata L'idea Di far nascere Quasi Contemporaneamente Una collana Di libri Dedicati All'ingbook Abbiamo Deciso di usare Immediatamente Fin da subito Il modello Inbook Di lavorare In collaborazione Con Il centro Studi inbook Quindi non abbiamo Fatto alcune ricerche Di questo tipo Ci siamo affidati E affidati In qualche modo Alla biblioteca Sono nati Lo scorso anno Quattro libri Che peraltro Abbiamo distribuito In libreria Credo anche Abbastanza bene Credo con Qualche discreto Successo e di vendita Ma questo per ora Non è assolutamente Un problema Nella verità Cioè La cosa importante È costruire un catalogo Perché comunque Alla fine Ha senso Che ci sia anche Della quantità Sulla qualità Credo che non ci siano Problemi Anche perché Se Abbiamo lavorato Ancora su libri Che erano già stati In qualche modo O autoprodotti Della biblioteca O comunque Che le biblioteche Conoscevano molto bene Quindi i primi Quattro titoli Quello scorso anno Sono titoli Tradotti Da edizioni Esistenti Mentre Abbiamo in corso Di pubblicazione Usciranno Credo fra una decina Di giorni In libreria Forse un po' di più Fra tre settimane Due libri Che invece Sono stati proprio Pensati E sono nati Appositamente Per questa Versione Quindi non avranno Una versione tradizionale Avranno solo L'edizione In book E però Anche lì Stiamo continuando A recuperare Il I titoli Del nostro Del mio vecchio Catalogo Di libri per bambini Abbiamo qualche Progetto ambizioso Perché L'ho raccontato A qualcuno Con cui ho parlato Oggi Ho un amico Dantista Mi sono fatto Molto prendere Da Da questo Modo Di far leggere I libri A quelle persone Che hanno bisogno Un modo diverso Per poter leggere E quindi Gli ho chiesto Di preparare I testi Per pubblicare Tre libri Tre cantiche Della Divina Commedia Non so Quando sarà pronto Non so Quanto ci costerà Cioè Non so niente So che è una cosa Che voglio fare Dicevo Vogliamo crescere Almeno per quanto riguarda Il numero di titoli Abbastanza in fretta Per cui noi Questa primavera Tra aprile e maggio Abbiamo in pubblicazione Quattro libri Ne faremo altri quattro Quest'autunno Ottobre E anche per il 2019 Abbiamo in mente Sei bar otto titoli Perché Secondo me Avere poi Un po' di catalogo Ci renderà anche Più visibili Ci renderà le cose Un po' più facili Comunque In questo momento C'è ancora un po' Di inconsapevolezza Però credo che ci sia Tanto entusiasmo E questo per il momento A me basta Almeno personalmente Ma guardate che Ne facciamo tante domande Quindi Giustamente Meritate Gli applausi Vado io Diciamo che più o meno Simile la storia Solo che a noi La proposta Non è arrivata Dalla rete Delle biblioteche Che avevano Autoprodotto Ma invece Da Luca Errani Della comunità Arcobaleno Di Bologna Che avevano Tradotto in simboli Il nostro Re 33 Sui 33 Bottoni d'oro Di Claudio Imprudente Che è stato Il nostro tentativo Come casa editrice Di fare libri Collane per bambini Ma si è fermato A due libri Una ventina D'anni fa E devo confessare Anch'io Che quando mi è arrivato Il re 33 In simboli Io non ho capito Assolutamente nulla Perché Non sapevo nulla Dell'inbook Ho fatto molta fatica Io E l'allora Direttore editoriale Non abbiamo capito Proprio niente Invece ho capito Molto Quando Luca ha fatto Quest'opera Di conversione E anche Di educazione Che credo Che sia molto importante Che voi facciate Nei confronti Di noi editori Perché Mi ha detto Vabbè Allora Incontriamoci Ti faccio capire Ti faccio Ti spiego E quindi Mi ha trascinato Nello studio Della dottoressa Costantino Celantonio E io lì Che ero andata Con alcune idee Perché avevo capito Tutt'altro Ho invece Ho detto Evita stati calma Apprendi Capisci E poi Abbiamo fatto Abbiamo fatto Questa operazione Di scegliere Anche Verso Quale direzione Portare La nostra collana Di ebook Cioè ho capito Che non poteva essere Un libro soltanto Cioè pubblicare In simboli Il libro Nostro Re33 Perché era In simboli Quindi abbiamo fatto Una scelta Di collana Editoriale E abbiamo fatto Una scelta Anche di target Specifico Cioè Giovani Adulti Quindi Abbiamo Lasciato I libri per ragazzi Un po' perché Non è il nostro Specifico La letteratura Per ragazzi Non è il nostro Catalogo Noi ci rivolgiamo Prevalentemente Ad educatori A genitori Questo è il nostro Target La nostra collana Educativa Partenze Ma anche premesse Per il sociale Si rivolgono Ad un altro Target E io credo Che non bisogna Essere concorrenti Di colleghi Che invece Hanno delle competenze Hanno anche Una qualità Ottima Cioè Non ti metti a fare Una cosa Che non sta Ormai dopo Trent'anni Nelle tue vene Provi ad allargare Il campo Ed è questo Che abbiamo provato A fare Quindi L'idea Di Una collana Che si rivolgesse A giovani Adulti A ragazzi Immaginata Nel formato E anche Nel supporto Delle illustrazioni Per loro Perché Hanno esigenze Di lettura E anche Di immagini Differenti Da quelle Dei bambini E quindi Qualcosa Che si Allontanasse Proprio Sia dal cartonato Ma anche Dall'albo Illustrato Quindi con L'immagine Che fosse Nel testo Per quello Che è possibile E vi devo dire Che qua Il lavoro Redazionale Il lavoro Grafico È stata Una grande Impresa Però È una bella Sperimentazione Cioè Per noi È stata Una bella Provocazione Intellettuale Ed è stata Una provocazione A quella Che poi Noi abbiamo sentito Anche sempre Come missione Sociale Del nostro Lavoro Editoriale Io l'ho raccontato Perché è vero Quindi va Condiviso Noi Alla fine Dei nostri libri Mettiamo sempre Quello che è Lo slogan Della meridiana La meridiana A partire Dei vissuti Un itinerario Dalle inquietudini Dalle marginalità Un itinerario Di ricerche E di incontro Possibile per tutti Dall'identità Alla relazione Dal potere Alla non violenza Radicale Uno slogan Che Non a tavolino Ma è stato creato Diciamo proprio Che ci caratterizza Quando abbiamo visto Il primo impaginato Stavamo per andare in stampa A quella pagina Ci siamo guardate Io e la redattrice Ci siamo dette Ma questo in un libro In book Deve essere scritto In simboli Ma fino ad allora Fino a quel momento Non ci avevamo pensato Perché nelle nostre categorie La frase è così E deve essere così Quindi ripensarsi Guardate È uno sforzo Che noi editori Dobbiamo fare Noi che Nella fucina Piccoli Diciamo Che lì I libri Proprio ce li guardiamo Li riguardiamo Il titolo Il sottotitolo La copertina Perché il nostro È un laboratorio E abbiamo pensato Che era quello Devo dire Che questa è stata Un'esperienza Molto forte Per noi In quel momento Dal punto di vista emotivo Perché è stato Per noi Ridare senso Oggi anche A quello slogan Di 31 anni fa Perché un itinerario Possibile per tutti Significa che tu devi trovare Gli strumenti E quindi Innovarti Nel mestiere Che fai Per arrivare A tutti Per dare questa possibilità A tutti Per noi È una grande scoperta Quando la direttrice Aperta No L'assessora Aperta È detto Ormai È un processo Irreversibile Io Ho detto Meno male Che qui È un processo Irreversibile Perché io Che sto invece Al sud In una bellissima zona Che tra una settimana Potremmo dire Avrà avuto Anche la visita Del Papa Francesco Da noi Proprio nella città Dove noi siamo Però lì Il processo È tutto quanto Da avviare Quindi noi Come editore Sentiamo anche Questo doppio Compito Non soltanto Di immaginare Prodotti editoriali Per tutti Con questo Linguaggio Con questo tipo Di scrittura Con questo approccio Con questa possibilità Data a tutti Ma anche di fare Questo lavoro Di apertura In un territorio Che ne ha bisogno Che ne ha fortemente bisogno Quando abbiamo fatto Con Silvia La presentazione Alle biblioteche Eravamo in Cinque il pubblico E quattro relatori Quindi Spero tra dieci anni Di poter dire Che abbiamo fatto Un incontro Dove c'erano Tante persone Cento persone Perché Quello è l'obiettivo Che ci poniamo Anche Perché In questa funzione Di editore Ci sono le biblioteche Ci sono le librerie Invece anche Su questo tipo Di prodotto Il pubblico Da andare a cercare E da andare Ad educare Che è una mission Non impossibile Ma una mission Comune Io sono Patrizia Di Storie Cucite Sono la più giovane Come casa editrice E quando a noi Ci è arrivato Questo progetto Avevamo appena pubblicato I primi due libri Della casa editrice Non conoscevamo Assolutamente I libri in simboli Non sapevamo Cosa fossero Ma quando è arrivato Il progetto Abbiamo pensato Che potesse valere La pena Conoscere I libri in simboli Quindi siamo andati A un primo incontro Si ricordi? Per capire Di che cosa Stavamo parlando Perché ho detto Ho guardato La mia socio Ho detto Io non so Che cosa sono Cosa dobbiamo fare Di questo progetto Ora vi racconto Anche questo progetto Perché poi abbiamo Deciso di pubblicarlo Questo progetto Nasce in collaborazione Con la biblioteca Oltre l'indica Paius di Bolzano E quando ci è arrivato Ed è stato costruito Da un team Di quattro persone Che è la bibliotecaria Che è anche la traduttrice Del libro in simboli Da un'autrice Che ha lavorato Appunto sul testo Da una psicoterapeuta Che ha fatto Un lavoro eccezionale E da un'illustratrice Che ha illustrato Ovviamente il libro Si è occupato Di tutta la parte grafica E questo libro Nasce per essere Un inbook Per essere anche Una versione alfabetica Quindi Se ve lo faccio vedere Eccolo Ed è stato Un progetto Che è partito Più di un anno fa Che vede L'esperienza Di un bambino Che è Alexander Appunto detto anche Ixi Perché si voleva Raccontare La storia Di questo bambino Un bambino Con una disabilità motoria Per parlare Ai bambini Dell'esistenza Della disabilità Ma come? In maniera Con delle storie Comune a tutti i bambini Quindi l'ingresso Della scuola materna Che sembra una cosa banale Ma tutti i bambini Il primo giorno di scuola materna Hanno paura No? La paura anche della mamma Di lasciare per la prima volta Il proprio bambino A scuola E poi si voleva Parlare anche Dell'identità di genere L'identità di genere Cioè la scoperta Di un bambino Della propria sessualità Il maschio E la femmina Esistono E quindi si volevano Toccare proprio Quelle che sono Le storie comune A tutti i bambini E questo progetto Nasce perché Si voleva dare Anche la possibilità A tutti i bambini Di accedere alla lettura Quindi nasce Come in book Ma a tutti i bambini Anche di Conoscere Quello che è La diversità Ed è stato fatto E lasciare Anche un progetto In cui Utilizzare il libro Come strumento Diagnostico Quindi genitori Insegnanti Che vogliono Utilizzare Questa storia All'interno Di un gruppo classe E diciamo Che è stato Un progetto Molto 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 lungo Molto elaborato E noi come editori Diciamo che siamo stati Uno dei kamikaze Perché non sapevamo Assolutamente E non avevamo dati Non avevamo numeri Soprattutto eravamo Appena nati Come casa editrice Quindi Come abbiamo aperto La casa editrice E quindi siamo stati Anche dei kamikaze In questo senso Perché Soprattutto per bambini Siamo stati dei kamikaze Anche nel produrre Degli inbook Però devo dire Che è stata Un'esperienza positiva Tant'è che abbiamo Pubblicato il secondo inbook Ne pubblicheremo Un terzo Mi pare A settembre Di inbook E abbiamo deciso Di lanciare anche Una collana accessibile In cui tutti gli albi illustrati Che noi produrremo In alfabetico Verranno poi tradotti Anche in simboli Quindi abbiamo Dice che la nostra casa editrice Deveva essere Accessibile A 360 gradi Secondo me Questo Diciamo È quello che noi Vogliamo dare Un po' come Come immagine Della nostra casa editrice Cioè l'accessibilità Alla lettura Fondamentalmente Noi Lavoriamo Per i bambini Cioè La possibilità Di dare ai bambini Di accedere Alla lettura Quindi alla cultura E secondo me Il miglior modo Per poterlo fare È quello Di farlo In maniera completa Appunto Con l'accessibilità In tutti i sensi Questo Adesso Diamo la parola A Dario Varisco Che con la sua Banca Dario come avete avuto modo Di vedere fuori Oltre che essere un libraio È anche un libraio Notorialmente Particolarmente Attento Per la varietà Di proposte Che fa E che fa Da tempo Alle biblioteche Gli insegnanti Quindi non è un caso Che sia qui E sia qui A rappresentare La bibliodiversità Editoriale E quindi Appunto Volevo Chiedergli Come si è Affacciato Con che Con che piglio Con che entusiasmo Si è affacciato A questa Diciamo Questa Nuova Ondata Che sta attraversando L'editoria Italiana E come Gli sembra Che stiano rispondendo Le biblioteche E magari anche Le librerie Colleghe Allora Diciamo che Nel pensare A questo momento Io Direi Anzitutto Mi piacerebbe Potervi portare Il punto di vista Di una libreria Classica Per capire Insieme a voi Questa domanda Girata Al classico Libraio Che tipo di risposta Può trovare Proprio perché In realtà Il nostro punto di vista È un po' diverso È un po' privilegiato Io Conosco È divertente Interessante Sentire come Incidentalmente Tre editori Incrociano La CA E invece Io finalmente Mi ritrovo ad incrociare Degli editori Dopo aver navigato Anche Tra la CA E Problemi di comunicazione Bisogni speciali Da questo punto di vista Per tanti Tanti anni Questo per dire Che Le motivazioni Che spingono me A proporre Alla libreria In cui lavoro L'apertura Di una sezione Dedicata Agli inbook È una scelta naturale È Finalmente L'esito Di un percorso Complesso E lungo Che parte Da lontano Che ha visto Anzitutto Lavorare A fianco Dei servizi Impegnati In percorsi Di comunicazione Aumentativa Con utenti Con gravi Difficoltà Poi pian piano Comparire Alcuni primi Esempi Di produzione Che andava oltre Al libro adattato Al libro personalizzato E oggi Devo dire Io stesso Sono sorpreso Nel momento In cui Mi rendo conto Che sono in grado Ormai Di riempire Quasi tre tavoli Di titoli E dico Finalmente Probabilmente Abbiamo Superato La soglia E siamo in grado Di avviare Una fase nuova Per questo genere Di proposte Per cui Molto semplicemente Faccio fatica A dirvi Come può pensare Un libraio Classico Di aderire A questa sfida Per me È una cosa Assolutamente naturale E da qui La speranza Che magari Certi entusiasmi E certa Certa voglia Di portare avanti Perché evidentemente Se i tre editori Che sono qui Con noi Ci segnalano Già Dei progetti Di questo tipo Significa Che hanno già capito Che vale la pena Farlo Per questo È fondamentale Quando poi si pubblica E lo abbiamo già detto La filantropia Va benissimo Ma Non porta poi Lontano A meno che Noi non siamo Dei giganti E comunque Non lo fa Per cui deve E questo Poi magari Nel proseguire La discussione Credo che Sarà un po' È sempre poi Uno degli elementi Centrali In qualche modo Perché Se si fa Troppa fatica A trovare riscontro Si fa Molta fatica Poi a portare avanti Le cose Con entusiasmo Per il giusto tempo Che serve a realizzarle E quindi Direi La sfida È accompagnare Dopo aver conosciuto Anche Silvia Già da tanti anni Io sono stato qui Da voi Quando organizzaste Un primo momento Credo Otto Dieci anni fa A portare Libri E Se ci penso Forse Dici anni Avevo un paio Se me li ricordo Sì Me li ricordo Perché me li ricordo Ma ne avevo due o tre Oggi Siamo qua Con 50-60 titoli Insomma I due ultimi anni Sono stati Un'esplosione Va cavalcata E quindi Direi Molto contento In questo senso Di trovare Anche questo spazio Vediamo cosa succede Noi Ci apprestiamo Ad allestire In Perego Libri A Barzanò Uno spazio Dedicato E aspettiamo Magari Di organizzare Un'inaugurazione Ne riparliamo Poi Perché questi Credo Siano un po' I temi Sui quali Costruire Il successo Di queste iniziative Sì In coscienza Tutti e tre Hanno riconosciuto Non capivo niente Non sapevo niente Ma ci ho creduto Ma mi viene da dire Ci ho creduto Così tanto La cosa più interessante Che si è partiti Da un grado zero Al Intendo costruire Una collana Un catalogo E anche una produzione Consistente E Voglio credere Che Questo sia successo Non Non tanto Perché Visto che siamo Ancora relativamente All'inizio Delle esperienze Tutti e tre Ma mi viene da dire Anche Di altri editori Italiani Perché Si stanno Intravedendo Appunto Chissà che Rose e orizzonti Che comunque A mio avviso Invece ci saranno Quanto perché Credo che Mi sembra di aver capito Che per tutti e tre È stato qualche cosa Che ha Umanamente coinvolto E se vogliamo Anche un po' Stravolto La casa editrice E ci ha fatto Entrare nel vivo Di Problematiche Esigenze Modi di comunicare Che hanno cambiato Dall'interno Un po' La vita di tutti La vita Non soltanto La vita della casa editrice Ma la vita Delle persone Che l'animano Quindi non poteva che essere Non poteva che andare così Che ciascuno A suo modo Vuole costruire addirittura Una collana E andare avanti E per questa ragione Mi interessava capire Quanto al vostro interno Pensate di sviluppare Questo catalogo Con delle risorse interne Piuttosto che collaborare Invece Invece Non in alternativa Ma anche Con una rete Di biblioteche in book Come quelle che state Conoscendo E che avete conosciuto Attraverso Silvia Brugheri O il centro Studi in book Piuttosto che invece Appunto pensare A una sorta Di redazione interna Oppure Una Un'equip Comune Ad alcuni Editori E quindi Anche un po' Come se avete fatto Una progettualità Non soltanto Di titoli Di storie Ma anche In questo senso E già che Enrica Mi obbliga A fare tutto Mettere tutto insieme Già che ci siamo Voi come editori Quindi non parlo Del Come dire Del Libraio Un po' speciale Che è per i libri Come pensate Di Rapportarvi Con Le tante librerie Che sono già Vostri clienti In Italia Perché tutti Avete Siete editori Di rilievo Nazionale E quindi Avete contatti Con realtà Molto diverse Tra loro Che immagino Rispondano Anche Diversamente Quindi Solo voi Potete avere Un po' Come dire Anche il polso Di un entusiasmo Piuttosto che Di una Cautela Vi sembra Che possano essere Queste risposte Che sensazione Avete Davanti A questa Vostra Recente Proposta Voglio iniziare Sempre io Io però Vorrei rubare Solo un minuto Per fare Un cappello Iniziale Non so se Quanti di voi Sanno che L'editoria italiana Negli ultimi Sette anni Ha perso Un sacco Di fatturato Cioè Dal 2010 Al 2016 Il fatturato Di tutti gli editori Italiani Parlo Escusamente Della varia Quindi romanzi Saggi Eccetera Eccetera Ha perso Circa un terzo Del proprio Fatturato Valeva 3 miliardi E 500 milioni Nel 2010 Vale 2 miliardi E 500 milioni Nel 2017 Soltanto Nel 2016 C'è stato Un primo segno Positivo Dopo 5 anni Consecutivi Di segno Meno E segno positivo Che è continuato Anche nel 2017 Ma parliamo Dell'1 e 6 Nel 2016 E del 5 e 8 Nel 2017 Però in questo 5 e 8 Hanno messo per la prima volta Le vendite di Amazon Che quindi ha Sparato verso l'alto Questo numero Ho detto questo Perché L'unico settore Di libri Che non ha avuto Questo percorso Quindi questa crisi È stato quello Dei libri per ragazzi Che è costantemente In crescita Negli ultimi anni Anche quando appunto Tutta la varia Invece soffriva moltissimo Ma E Questa riflessione Mi ha portato Ad una domanda Che faccio a me Ma faccio anche voi Perché Questo che secondo me È un settore importante Al di là Del punto di vista commerciale Che ancora forse Non c'è Ma È un settore Quello dell'inbook Dei libri con simboli Secondo me È un settore Importantissimo Perché voi Non avete idea Di Andando in giro per l'Italia A presentare questo libro Sull'autismo Io ho scoperto La quantità Di famiglie Che sono coinvolte Da questo problema Allora Perché gli editori Quelli grandi La Mondadori La Rizzoli Che poi è sempre La Mondadori E tutti gli altri Non sono ancora Piombati In questo settore Alla fine L'abbiamo fatto Noi 3, 4, 5 Piccoli editori Io sono piccolo E per scelta Ho deciso Di rimanere piccolo Nel 2011 Facevo Due volte Il fatturato Che faccio oggi E poi ho lavorato Per tre anni Per abbassare Questo fatturato Perché Mi stavo rendendo conto Che non facevo più Quello che mi piaceva fare Cioè Scegliere i libri Leggerli Correggerli Decidere quali pubblicare E quali no Alla fine pubblicavo Per far fatturato È un meccanismo Che a un certo punto Ho detto Non mi appartiene Allora Noi siamo Qui siamo Tre piccoli editori Abbiamo Credo Delle caratteristiche comuni Siamo intelligenti Ma Più ancora Che intelligente E più importante Siamo curiosi Abbiamo Fame Di Conoscenza Per cui Quando Ad aprile Del 2017 Io per la prima volta Mi sono imbattuto Nella CA Non ho fatto altro Che passare Tre notti A leggere Documenti Su documenti Su inter Tutto quello che trovavo Me lo scaricavo E me lo leggevo Perché volevo capire Cosa fosse Perché alla fine Se tu non sai Quello che stai facendo Non puoi fare le cose Come vanno fatte Punto Poi Quindi secondo me Da una parte È un limite Che comunque Gli editori grandi Non siano ancora entrati Perché se entrasse La Mondadori Questo diventa Tutto diventa Molto più facile Secondo me Perché i mezzi Che ha la Mondadori Noi non ce li abbiamo E noi non dobbiamo Noi piccoli editori Non dobbiamo essere Contro la Mondadori Perché Se la Mondadori Va bene Vanno bene Anche i piccoli editori Se la Mondadori Fa una cosa E la fa bene Allora c'è spazio Poi anche per gli altri Perché comunque I grandi hanno la capacità Di creare comunque Il cosiddetto mercato Io Io lo distribuisco Vendo i miei libri Quasi esclusivamente In libreria Il 90% Del mio fatturato È fatto in libreria Devo dire Che l'accoglienza Da parte Quando io ho presentato Il Le schede di presentazione Di questi primi libri In uscita L'anno scorso L'ho costruita insieme A Silvia Perché gli avevo dato Il testo da leggere Da verificare Che fosse compatibile Con Che non stessi dicendo Delle cavolate Visto che Volevo parlare A delle persone Che E spiegare loro Un problema Allora Io ho spiegato Questa cosa Ai miei agenti Che sono andati in libreria L'hanno riportato Ai librai E mi sembra Di avere ricevuto Una risposta Anche positiva Da parte dei librai Quindi Secondo me Se Noi Soprattutto piccoli Appunto continuiamo a lavorare In un certo modo Sicuramente Il mercato c'è E se non c'è Lo costruiremo Perché comunque Rendere accessibili Fisicamente Un libro Alla fine Comunque Aiuta A Anche farlo A veicolarlo A farlo trovare A farlo leggere A farlo acquistare Che è quello che ci interessa Comunque Appunto La cosa importante Secondo me È che a noi Non venga meno Questa cosa Della curiosità Della voglia di conoscere Perché è il motore Che ci fa andare avanti E questo è anche il motivo Per cui io A qualcuno L'ho detto L'ho scritto Anche in un intervento Che ho fatto Per Bologna Dove non ho potuto andare Io sono curioso Per natura Quindi Io leggo un libro Trovo delle indicazioni Poi mi vado a cercare Quei libri Che trovo segnalati Perché ho voglia Di conoscere Cosa dicono E vado avanti così E tutta la mia Cultura Si è costruita In questo modo Cioè libro dopo libro Ricerca dopo ricerca Allora So che comunque Ci sono un sacco Di Di libri C'è un bellissimo patrimonio Che fa parte Comunque Di questa rete Di Di Libri in book Noi siamo assolutamente Disponibili a valutarli tutti Cioè non ho detto Che li pubblicheremo tutti Anche perché Contrariamente ad esempio Alla Meridiana Per il momento Abbiamo deciso Di rimanere nell'ambito Dei bambini Da tre anni in su Fino a sette Otto Dieci Poi magari più avanti Con la Divina Commedia Appunto ci Ci porteremo un po' più in là Però comunque Vogliamo rimanere in questo ambito Perché è giusto comunque Fare delle scelte E poi Mantenere anche le scelte Che si fanno Però appunto Proprio perché siamo curiosi Abbiamo sempre voglia di Scoprire cose nuove Siamo disponibili a valutare Qualsiasi progetto Ci venga comunque proposto Vado velocemente Così Perché io ho un aereo Oddio Ma ce la facciamo Non mi preoccupate Allora Noi Questa collana La collana parimenti Nasce già da un lavoro di rete Quindi forse Posso dire A un certo punto Mi sono detta Che era la condizio sine qua non Considerato anche La profonda ignoranza E difficoltà Anche geografica A stare in un luogo Totalmente decentrato Dove comunque stavano Accadono delle cose E questo non per dire Che noi lì siamo incapaci Perché lì c'è da costruire Io so diciamo Che sono in un luogo Di frontiera E ci assumiamo anche Questa responsabilità Che sentiamo addosso Ehm Quindi era questo Cioè siamo nati Perché in fondo Nella progettazione editoriale Proprio di questa collana Oltre Luca Errani E il suo centro E i suoi scrittori I suoi traduttori I suoi ragazzi C'è anche il CDHH parlante Per cui anche la programmazione editoriale Quali libri scegliere La stiamo facendo con loro Quindi noi siamo già nati Da Da un lavoro Dalla decisione Abbiamo maturato la decisione Anche il titolo della collana Parimenti Tutte quante le nostre collane Cominciano per P Quindi il vincolo era Trovare una parola Che cominciasse per P E quindi siamo E siamo già questo Ma sicuramente Secondo me Questa nostra curiosità Visto che qui voi Avete il materiale Voi siete voi Insomma La fucina prima Potete permetterci Di fare anche più velocemente Il nostro lavoro Se I prodotti Che ci sono E sono già validati Cioè qui c'è Il bisogno di Arrivare sul mercato Con più prodotti possibili Anche posso dirlo Azzerando alcuni costi Abbattendo alcuni costi Che sono quelli Della traduzione Della verifica Questo lavoro Se vogliamo rendere ricco Il mercato E costringere Le librerie A capire Che devono averlo Uno spazio Uno scaffale Perché ci sono Cento libri In book Che escono in un anno Allora questo è un lavoro Proprio dico Di squadra E quindi c'è il materiale E noi siamo molto disponibili Prima Silvia mi ha portato Nella sua stanza Laboratorio E sicuramente Diciamo Lì c'è qualcosa Da cui possiamo attingere Anche grazie alle competenze Alle reti Che voi avete creato Quindi Nello specifico Ciascuno Del suo ambito Credo che l'obiettivo È la volontà di tutti Per non fare soltanto Filantropia Appunto Perché poi Alla fine Gli stipendi Li dobbiamo pagare tutti E quando arriva il 16 L'F24 E' il dramma Diciamo per tutti E' importante Insomma Arricchirsi reciprocamente Proprio con il materiale Che già c'è E voi Più di noi Sapete quello che funziona Di più Questo è anche L'altro punto Sguardo che voi avete Perché voi avete Gli utenti Avete i lettori Direttamente Noi dobbiamo Quando pubblichiamo un libro Dobbiamo Ci immaginiamo un lettore E poi Dobbiamo andarcelo Oltre che al cercare Ma magari Non lo troviamo Sono molto d'accordo Con quello che ha detto lui Cioè se qui arriva Un grande La partita Diciamo Comincia a prendere Un ritmo diverso E io qui vorrei dare Proprio un compito Al centro Studi in book Quello di aprire Un dialogo Con i grandi Guardate A me non fa paura Raccontavo Oggi pomeriggio A Patrizia un esempio Ora ve ne racconto Anche un altro Noi siamo gli editori Conosciuti Soprattutto per genitori Efficaci Che abbiamo pubblicato 24 anni fa Io allattavo Mentre correggevo le bozze Il primo anno Avevamo venduto Poche copie Quel libro Era stato rifiutato Dalla Feltrinelli Perché il tema Della genitorialità Non c'era Non faceva Mercato Ok? Quindi a chi sono andati A uno piccolo Un anno e mezzo dopo La Feltrinelli ha pubblicato I no Che aiutano A crescere Ok? E' cambiato il mondo E' l'attenzione Sulla genitorialità Il primo anno Il primo anno Il secondo anno Noi di genitori Efficaci Abbiamo venduto 1000 e 1200 copie In alcuni anni Di questi 24 anni Abbiamo venduto Anche 8000 copie Lo standard Ora è 4000 copie All'anno In libreria Che cosa voglio dirvi? Che i grandi Cambiano Il ritmo Ok? Io non ho perso Come casa editrice La mia identità Cioè io Sto in piedi Da 31 anni E pubblico Seleziono Dei libri Ad altri Dico no Non scelgo Quelli da cassetta Dico io Anche perché Non sarei concorrente Con la Feltrinelli Faccio un lavoro Di qualità Faccio più fatica A campare Però so Che non tradisco La mia missione Culturale La mia scelta Culturale Forse qui Un dialogo Bisogna aprirlo Anche perché Bisogna fare in modo Che poi Quello che esce Da questi grandi Che fanno Più cassetta Più materiale Da cassetta E meno Impegno sociale O altro Va molto tutelato Proprio perché I lettori Di questo tipo Di prodotto Esigono Una tutela Maggiore Bisogna Costruire Il mercato O meglio ancora Quindi costruire Il mercato E soprattutto Fare un grosso Lavoro culturale Perché Questi libri Siano conosciuti E quindi C'è un Un'esigenza Di pubblicare Di più Ma anche Allo stesso tempo Di far conoscere Molto di più Le potenzialità Di questo prodotto Di questo libro Che poi va bene Per tutti Cioè va bene Per tutti Non è un libro Di settore Va bene Assolutamente Per tutti Diciamo Questa è la scoperta Che io faccio Quotidianamente Mi fermo qua Se non Guarda Ne parlevamo Proprio Giusto appunto Prima Su Partiamo Della Feltrinelli No no Dai L'altro esempio Quello del Mutismo Selettivo Guardate Noi abbiamo Pubblicato Il libro Comprendere Il mutismo Selettivo Nato Da un'esperienza Di famiglia Eccetera Quando Checco Zalone Nel film Non mi ricordo Come si chiama Fa l'esempio Del mutismo Selettivo Quindi è diventato Sono schizzate Non schizzate Non siamo a livelli Però Quel libro Lo continuiamo Succede Cioè È un amplificatore Quindi Noi siamo un po' Quelli che stanno sul campo E pubblicano C'è il momento In cui qualcuno Checco Zalone Dice Ma questo che cos'è Non è niente Il mutismo Selettivo Però Desta la curiosità O il riconoscimento Che quel tema Esiste No Guarda No Tranquilla Io volevo aggiungere Solo questo Sono pienamente D'accordo con loro Noi piccoli editori Abbiamo la capacità Di sperimentare E questo Ovviamente Ci porta Anche A Ad entrare Ad addentrarci In questi terreni Un po' No Dove non so Come andrà Come non andrà Ma questa è la nostra capacità Di essere piccoli Quello di studiare Di vedere Di provare I grandi editori Magari Preferiscono fare Tanti numeri No Ma vedai Che secondo me Fra un annetto Mondadori O Feltrinelli Ci arriveranno Io invece Penso proprio di sì Secondo me Stanno aspettando Di vedere Che i numeri Crescono Sugli inbook E arriveranno Io Fra un anno Direi che Secondo me Ci siamo Ne riparliamo Ne riparliamo Ma secondo me Stanno aspettando Perché stanno cercando Di capire Ma ve lo dico Perché noi Ad una fiera Che abbiamo fatto La prima La prima Tutto su quello E quindi Anche il lavoro Secondo me Che deve essere Fatto dal centro Sud inbook È quello Di controllare Che anche I grandi editori Facciano Della qualità Questo è fondamentale Perché poi C'è il rischio Che magari Si perdono Come No Il punto di vista Che è quello Cioè noi piccoli editori Lo stiamo facendo Anche i grandi editori Dovranno farlo Perché altrimenti Si perde più Tutto il lavoro Che è stato fatto Fino ad oggi C'è un motivo Esatto Esatto Io credo Che la cosa importante Che non venga tradito Questo discorso Della supervisione Comunque del fatto Che ci sia Un coordinamento In qualche modo Centrale Però Davvero Se Cioè finché Rimaniamo noi Se anche se ne aggiungono Degli altri Rischiamo di fare Una cosa molto bella Molto importante Che rimane però Un po' Decentrata Nell'ombra Noi abbiamo bisogno Invece Ma anche per voi Ma soprattutto Per tutte quelle persone Che hanno il diritto Di leggere Abbiamo bisogno Che questa cosa Diventi Quasi di massa Poi faranno Più soldi loro Ma chi se ne frega Cioè Alla fine La cosa importante È che Si proponga Della qualità Sappiamo che Loro possono Se vogliono Possono offrire Qualità Ma anche quantità Assolutamente Assolutamente Eh Beh Le biblioteche Sono un buon Volano È una casa Di risonanza Per portare Visibilità A tutte queste Proposte Di qualità E che non Sono di nicchia Ma sono messe Sullo stesso piano Di tutte le altre Eh Dobbiamo Dobbiamo Chiudere Magari se Dario vuole aggiungere Qualcosa Sì Ma mi viene da dire Che se si fosse capaci Di prendere Eh Brugherio Come modello Di sviluppo Graduale Che ha visto Poi pian piano Entrare il contributo Di scuole Che vede Vicina Una libreria Che aderisce Che vede Editori che arrivano Da lontano Che In qualche modo Ha costruito Quel substrato Sul quale È possibile Sperimentare Delle occasioni Di successo Come quelle di oggi E io Ritengo Che questa cosa Si debba organizzare Perché abbia Un seguito Non vengono da sole Il rischio Se lasciamo che vengano Da sole È che Si faccia solo dove Eh Il terreno È già pronto Se vogliamo Accelerare Questo processo Dobbiamo metterci Al tavolo Ragionare Su Territorialmente Dove Ci sono Spazi pronti C'è una biblioteca Che in qualche modo Può essere coinvolta C'è una scuola C'è un centro Iniziamo a farle Dialogare Gli diamo Del supporto Diamo supporto All'editore In qualche modo Perché Sia motivato A partecipare E io Da Da libraio Eh Se dovessi Scegliere Solo come Può essere Che faccia Il libraio Classico Quando si ritrova A dover Scegliere Quanti Volumi Portare Oggi Eh E deve Investire Sapendo poi Che alcuni Li può rendere Altri Non li può rendere Penso Che Nel Nell'affrontare Questa sfida Eh Vada tenuto in conto Come dire Una quota Di investimento Su questo processo Proprio di crescita Che in qualche modo Ci si deve poter Giocare In quel Nelle varie Fasi Nei vari Passaggi Che ha questa cosa Perché Eh C'è il rischio Che altrimenti Eh Per alcuni Eh Davvero La motivazione Sia quella iniziale Sia quella del primo incontro Ragionavamo con Silvia Sulla possibilità Eventualmente Di Ipotizzare Un pacchetto Che potrebbe essere Offerto Al livraio E che comprende Una facilitazione Nel reperimento Dei volumi Perché magari Li abbiamo messi insieme Che comprende La disponibilità Ad organizzare Un momento Di presentazione Di inaugurazione Di questo spazio Che comprende La possibilità Di Pornire Eh Dei Dei Riferimenti Di quali Sono i servizi Che già Si occupano Di queste cose Nel suo Nel suo Territorio Ecco Quell'insieme Di informazioni Che lo fanno Sentire Sufficientemente Eh Protetto E all'interno Di un progetto Che sta Che è nato E che si sta Portando avanti E che sono Eh Le avanguardie Quelle che poi Finalmente Aprono Eh All'adesione Da parte Del grosso Editore Che a quel Punto Eh Se ci aspettiamo Che questa Promozione Venga Da Amazon Ce lo possiamo Scordare Quindi Eh È una cosa Che va fatta Sul campo Poi Può Può avere Anche L'impulso Eh Da altri Sistemi Ma è una cosa Che si può Fare solo Mh Solo andando Solo andando In strada Ecco Eh Chiaramente Le fiere Io mi ricordo Dieci anni fa Chi avrebbe mai Pensato Di trovare Se ti davano Spazio A Torino All'interno Del salone Quello condiviso Per un quarto D'ora Me lo ricordo Io perché C'ero Insieme al Eh Insieme all'associazione Mh Autismo Di Torino Di genitori Che presentava E lì Era stata occasione Anche per far vedere Qualcosina Eh Bisogna Creare Secondo me Un modello Di penetrazione Del territorio E che Che preveda Tutti i passaggi Eh Per arrivare Selezionando La libreria E facendogli Una proposta Che Eh Che sia praticabile Che possa essere Di interesse È una sfida Complessa Perché Tiene dentro Tante Tante Però credo Che sia un po' L'unica strada Che potrebbe In qualche modo Preparare davvero Anche il campo Alla discesa Poi dei più grandi Che sappiamo benissimo Che a quel punto Sono capaci Di far esplodere La cosa Sì E infatti Le sfide Piacciono A questi editori Che appunto Io mi sento Di ringraziare Perché le hanno Accettate Grazie alla loro Intelligenza Alla loro curiosità E anche A quella Cultura Dell'accessibilità E dell'inclusione Che fa parte Del loro Tessuto Umano Prima di tutto E che credo Che sia anche Quella Che porta Come porta A noi biblioteche A uno stimolo Alla conoscenza E non Alla diffidenza E che penso Sia Quello che ci aiuta Ad andare avanti Ad accettare Nuove sfide E inventarcene Sempre di nuove Credo che tutti Abbiate capito Come sia Un lavoro Molto complesso Che non si improvvisa Che si basa Su una rete Di fiducia Di competenze Che si costruisce Nel tempo Abbiamo parlato Molto di Produzione Di autoproduzione Ci sono anche Tante autoproduzioni Come dire Mosse dalle buone Intenzioni Ma che magari Non hanno Delle caratteristiche Così Scientificamente Corrette Come quelle Di cui abbiamo Parlato Questo pomeriggio Per cui Direi che Riconoscere Il lavoro Che tutti Tutti noi Stiamo facendo Sia già Come dire Un merito Che ci Diamo E ci riconosciamo E ci dà la forza Per continuare In questa direzione Quindi Non dico Tra dieci anni Ma l'anno prossimo Grazie Alessandra Grazie a tutti I nostri ospiti Che vengono Anche da molto lontano Che dobbiamo Lasciarle ripartire Addirittura Da Molfetta Citerrei Perché Secondo me È sintomatico Cioè Se il sindaco Si è fermato Fino adesso Ad ascoltare Questo seminario È sintomatico Del perché Possano succedere Delle cose Nei territori Marco Una parola Non penso Che sia perché Non abbia niente Da fare Ecco perché Oltretutto Siamo in campagna Elettorale Quindi Non ancora Ufficialmente No Buonasera Due cose In un minuto Perché a quest'ora E con un buffet Non si può dare Non si può dare La parola Al sindaco Quindi Due cose In un minuto La prima è questa Io sono sinceramente Colpito E volevo dirvelo Che tante persone Possano decidere Di passare Un sabato pomeriggio Di primavera Col caldo Chiusi qui dentro Al caldo Più caldo Di sopra Per tutto questo tempo Quindi io vi ringrazio Di questo esempio Che mi avete trasmesso E quindi volevo dirvela Come prima cosa La seconda cosa Però è esattamente Quella che Scusate le spalle Che si stava dicendo adesso Credo che dietro A tutto questo ragionamento Che ci ha fatto stare qua Per tutto un pomeriggio Ci sia Ci sia un cuore Niente di più Fatemelo dire Semplicemente così Non è solo Professione Non è solo Fare il bibliotecario L'editore L'insegnante L'educatore E quant'altro Ma ci sia dietro un cuore C'è un libro Al quale io sono Particolarmente affezionato Che è il piccolo principe Che sapete tutti Ad un certo punto Dice che è il tempo Che hai dedicato La tua rosa Che ha reso la tua rosa Così importante Io credo che voi Abbiate dimostrato Che se dobbiamo arrivare A questi livelli Se siamo già arrivati A questi livelli E se avete già rilanciato Quello che dobbiamo fare Ancora di più Per arrivare a livelli superiori E perché c'è dietro Una rosa Alla quale tutti teniamo Che è quella Davvero la possibilità Che per tutti Per tutti sia possibile Leggere Apprendere Capire Crescere E conoscere Grazie davvero Non uscite Non uscite senza C'è un buffet semplicissimo Però volevamo fare Un brindisi insieme Per questa giornata Un applauso a Silvia L'Ambrosio 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 Un applauso a Silvia L'Ambrosio